Grazie. Ho bisogno di presentazioni, ad ogni modo due parole le dico comunque. Professore associato di letteratura portoghese e brasiliana all'Università di Genova, ha insegnato a lungo qui all'Università di Siena, quindi è tornato e a casa. Ha sviluppato progetti di ricerca per l'Istituto Camões, per la funda São Gulbenkian di Lisbona, prevalentemente si occupa di letterature comparate, di letterature del Novecento in lingua portoghese, quindi del Portogallo, Brasile, paesi lusofoni, su cui ha pubblicato svariati saggi. Uno degli ultimi, importantissimo, che è stato e continua a essere punto di riferimento per i nostri studenti, Calligrafie Morali, Discorsi del Potere, Incardoso Pires, Lobo Antunes e Herberto Helder. Ha curato l'edizione del secondo libro dell'Inquietudine di Fernando Pessoa, più recentemente l'edizione di Tutti i racconti di Clarice Lispector. È traduttore, cito solo ultime traduzioni, sempre di Clarice Lispector, Cicco Buarque, Guimaraes Rosa. Ha collaborato con pagine culturali di vari quotidiani e in ambito creativo, infine, autore dei progetti Hotel Sodade, con il fotografo Filippo Romano e Pessoa Persona, con l'artista Antonio Giorge Gonsalves. Quindi chiudo qui e ti lascio la parola. Grazie, grazie Ada Milani, grazie a tutti voi e a tutte voi di essere qui. Come ha detto Ada, per me è un ritorno. Sono molto felice, particolarmente felice di tornare qui. Ada ha detto una parola bellissima, ha detto casa. E in effetti mi sento a casa, questi abbracci che avete intravisto, questi momenti un po' extra accademici che a me piacciono molto, sono importanti proprio per questo. Io ho insegnato per 16 anni in questa università, ho fatto lezione in questa stessa aula per molto tempo e quindi se c'è ogni tanto una piccola vibrazione particolare nella mia voce, dato che sono tendente al pathos e alla commozione, sapete perché. È solo per questo. Allora, io sono felice anche per un altro motivo, perché ho qui due colleghi che non sono colleghi ma sono amici, Valeria Tocco e Vincenzo Russo, con i quali, come ha detto Ada, da tanti anni, Adal ha detto in forma molto elegante, ha detto noi siamo le bibliografie, però in effetti da tanti anni ci impegniamo in un discorso che ha a che vedere col canone, ha a che vedere con un'idea di letteratura scritta in portoghese, che con tutto il rispetto doveroso per i nostri maestri si sposta dal portogallo e da un certo modo di intendere la letteratura portoghese, anche da quella brasiliana, e viaggia lungo le isotopie, le geografie che la lingua portoghese ha creato e che sono tantissime, che sono interessanti e che non devono essere di nicchia, non devono essere relegate all'esotismo come lo sono state in parte, grazie a un'eredità coloniale e colonialista molto forte. Quello che a noi importa è mettere al centro il testo, e quando mettiamo al centro il testo, il testo ci racconta cose che vanno ben oltre il discorso del canone, ben oltre la tradizione, ben oltre le eredità che si possono o meno rispettare. Io oggi vi parlo di Capoverde, ma poi parleremo di Angola, di Mozambico, Ada Milani sta facendo un lavoro straordinario, nello specifico sul Mozambico. C'è tantissimo da fare, questo è il mio preambolo, c'è tantissimo da fare su questi universi letterari, su queste letterature. Oggi c'è una parola che ritorna sempre di più, che ha un'eredità in parte goetiana, che parlava di Weltliteratur, la letteratura del mondo, oggi si parla di letteratura mondo, che può essere l'ennesima moneta spendibile, però dentro questa moneta spendibile c'è una cosa molto bella, il ritorno ha un concetto importante, la letteratura è qualcosa di universale, non ha territori, non è territoriale, ha i territori ma non è territoriale. E allora quando si lavora, noi abbiamo un grande privilegio, lavoriamo sulle letterature di lingua portoghese, apro una piccola parentesi anche polemica, a volte nei consigli di dipartimento sento dire dei miei colleghi, sì poi parliamo anche delle lingue minori, la lingua minore portoghese è parlato a 250 milioni di persone, la terza lingua europea più parlata del mondo, se la lingua minore è il portoghese l'italiano cos'è, no? Quindi dobbiamo riportare tutto a questa meraviglia, che dobbiamo anche analizzare in modo critico, ma è una meraviglia, di una lingua, di una cultura che viaggia, e che viaggia veramente in tutto il mondo. Noi siamo potentemente anticoloniali, ma se guardiamo l'emisfero, se guardiamo la cartina del mondo tra il 1500 e il 1800, vediamo le, anzi tra il 1400 e il 1800, vediamo bandierine portoghesi ovunque. Questo è il preambolo, quindi una gioia condivisa per poter riprendere questo tipo di prospettiva e poter dedicare una mattinata a queste letterature. Allora, nello specifico io vi parlo, come potete vedere dal titolo, Terralonge per una storia della lontananza a Capoverde. È un titolo un po' così, un po' da guitto, da van spettacolo, perché in questo titolo io l'ho scelto apposta perché ci posso mettere tutto quello che voglio, perché parlare della storia della lontananza a Capoverde, che tutti mi hanno detto, wow, che dai il titolo, effettivamente suona bene, io ci posso mettere la storia di Capoverde, la storia della cultura di Capoverde e la storia della letteratura di Capoverde, perché la lontananza, che è un concetto che ci identifica anche quando non vogliamo, è una cosa che lavora molto nel nostro inconscio, non solo il concetto di distanza, il qui e ora, la dimensione dello spazio e del tempo, naturalmente sono la nostra ontologia, ma il concetto di distanza e di lontananza sono due concetti che alimentano il nostro, la nostra identità anche, diciamo così, esistenziale, sensoriale, sentimentale, senza lontananza saremmo tutti un po' più poveri, perché avremo meno nostalgia. E qui, se sentite la vibrazione, capite perché, perché, beh, tornare, io vivo a Milano e insegno a Genova, a tornare a Siena, ieri sono arrivato in macchina all'ora del tramonto, e il concetto di lontananza e di distanza di un luogo così bello, naturalmente alimenta il mio pathos personale. Allora, io oggi vi racconto di una letteratura che è nata nel segno della lontananza e che vive ancora nel segno della lontananza, nonostante il mondo globalizzato, nonostante la contemporaneità, l'iperpresenza delle situazioni e anche della comunicazione, delle immagini e delle suggestioni. E vi spiego brevemente questo concetto di terra longe, che poi ritornerà nelle mie parole. Io qua ho un testo, in realtà un testo che sarà pubblicato, speriamo presto, in un volume della Reply, a cui abbiamo partecipato tutti e quattro, che tutti e cinque, perché anche tu in qualche modo, Sofia, hai dato il tuo contributo fondamentale. Sarà il primo e l'unico per ora manuale italiano, e non solo, forse italiano, dedicato a queste letterature. Io ho dei, mi sono stampato questi fogli per avere qualche indicazione, ma vado assolutamente a braccio. E questo termine, terra longe, che ha dentro di sé due parole, terra e longe, e queste due parole vanno insieme a capoverde, perché terra ci dà un'indicazione naturalmente, banalmente, tellurica del luogo, un'adesione fortissima al luogo, non so se tra di voi c'è qualche isolano, ci sono sardi, ci sono siciliani, ma chi vive, è nato su un'isola, sa benissimo che il concetto di terra e il concetto di longe, se li porta nel codice genetico. E longe, lontano, perché quando uno sta su un'isola, e per di più, che è un po' la storia che vi racconto io, su un'isola africana, atlantica, in ambito di colonialismo, in ambito di colonialismo fascista, e sotto legida di una dittatura, beh, diciamo che questo concetto assume delle valenze ancora più complesse. Terra, come adesione a una terra, che è una terra cattiva, una terra che si ama, ma una terra cattiva, da cui si deve emigrare, che si deve lasciare, e longe, e longe è lontano, cioè tutto quello che si immagina, tutto quello a cui si aspira, e noterete, spero, delle contraddizioni molto forti in quello che vi dico, e nello stesso tempo, appunto, tutto quello a cui non si vuole guardare per paura di dover lasciare la terra. Questo è il cortocircuito della letteratura capoverdiana, ed è il cortocircuito con cui i capoverdiani vivono il loro stare nella propria terra. da sempre, dall'inizio fino ad oggi. Non conosco capoverdiano che non abbia, utilizzo questa metafora scontatissima nel codice genetico, questa complessità di rapporti con lo stare qui e il voler essere altrove. e nel voler lasciare il qui, e nello stesso tempo avere una paura dannata di questo altrove. Ecco, questo è un concetto di natura assolutamente esistenziale che racchiude la geografia, l'economia, la cultura, la politica, e il senso stesso di appartenere, proprio di appartenenza a un luogo. Ora, voi sapete bene che appartenere a un luogo vuol dire appartenere a, e ritorno alla parola terra allonge, appartenere a una terra, ognuno di voi ha una memoria. Io ho fatto due anni fa un corso ai miei studenti sulla memoria, memoria e letteratura, e cagliò, come si dice in portoghese, il primo anno di lockdown, e questo corso è diventato una specie di terapia di gruppo, perché è un'esperienza abbastanza surreale, studenti che scoppiavano a piangere, ognuno che raccontava, siamo partiti dal testo della letteratura portoghese, poi ognuno raccontava, perché una volta mia nonna mi diceva, cioè, bellissimo. Ma questo perché, ve lo dico, perché memoria e terra sono due cose molto legate. Allora, ognuno di voi, nella propria memoria, anche quelli che vivono, che hanno scelto di andare via, o che vivono nel luogo dove sono nati, penso se tra di voi ci sono senesi, ha comunque una connessione molto forte con la memoria della terra, che è una connessione sensoriale e sentimentale. Odori, suoni, io faccio spesso esempi banali, come, non so, due luoghi che io amo molto, che sono Genova e Lisbona. Se voi camminate sul fiume a Lisbona o sul porto a Genova, sentite gli stessi rumori, che sono i rumori che sentiva Pessoa quando scriveva l'Ode Marittima, le cime delle barche che si scontrano al vento, i gabbiani, il suono di una nave, e di una sirena, di una nave che entra, eccetera. Io che sono ligure, se sento, ieri sera, mi hanno servito del basilico in un piatto e mi basta quel profumo di basilico per automaticamente, inconsciamente, riandare alla mia infanzia, no? Allora, tutti noi abbiamo questo tipo di memoria, legato alla terra. Questo tipo di memoria si trasporta. Certo che siamo mezz'ora e non ho ancora cominciato a parlare di letteratura, però ci arrivo. Questo tipo di memoria si trasporta e assume altre valenze. Diventa, si narra nelle forme della letteratura e si narra nelle forme della nostalgia. Non è un caso che l'etimologia di questa parola bellissima, nostos algos, il dolore del ritorno, implica quest'idea, a volte messianica, a volte assolutamente così, solo vissuta a livello di suggestione, di un ritorno. Ti abbraccerei volentieri, un altro abbraccio a cui darei, una mia cara collega e amica dei miei tempi senesi. Ritorna, questo momento, ritorna in un afflato che è unico, che ci provoca una fortissima nostalgia. Il dolore del ritorno, il dolore del ritorno alla terra. Allora, Capoverde è un paese di emigranti, è un paese che ha vissuto sulla pelle come un tatuaggio la matrice dell'addio. E non è un caso che uno dei testi a cui ci si riferisce di più per narrare Capoverde è il testo di una morna. Adesso vi spiego cos'è una morna. Io parto dal punto zero, non so quante cose voi sapete di Capoverde, ma la morna è, insieme alla coladeira, e al funanà, e il trittico della musica capoverdiana. Cioè il racconto popolare di Capoverde, come spesso avviene in quasi tutte le culture popolari, noi che lavoriamo col Brasile lo sappiamo benissimo, si sviluppa attraverso anche il canale della musica e della danza. Il corpo è molto importante quando si parla di letteratura. Allora, in questo trittico, formato da morna, coladeira, funanà, non vi faccio l'etnografia o l'etnomusicografia di queste varianti, ma la morna è quella più malinconica, più triste, molti l'hanno accostata a una derivazione del fado, forse invece addirittura al contrario. C'è un po' di blues, c'è addirittura il sciorigno brasiliano dentro. È un misto. È una musica nata dai marinai, da gente che viaggiava, che andava in giro per il mondo, e che imbracciava un chitarrino, molto più di una chitarra, poi si è abbinata la chitarra e il violino. Sono i tre strumenti della morna. Abbracciava un chitarrino, che qualsiasi marinaio un po' dotato si portava in giro per il mondo, prendeva elementi da varie musiche di altri marinai, e cosa cantava? Cantava il dolore dell'addio. Allora, la morna a cui ci si riferisce per questo racconto dell'addio si chiama Ora di Bai. Ora di Bai non è portoghese, come notate. Ora di Bai è creolo. E questo Bai è una, direbbero quelli della vecchia scuola, una corrottela, della terza persona, singolare dell'indicativo Ir, e li vai, va, in italiano sarebbe va. Quindi, Ora di Bai, l'ora di andare. Ora di Bai, ora di Dor, continua, l'ora del dolore. e al centro di questa morna, che vi potete ascoltare, ce ne sono varie versioni, basta andare su YouTube, c'è una frase che dice corpo, schiavo, rimani, anima, libera, ritorni. Chi cantava questa, ora vado avanti un po' con le... Ah, vabbè, questo, se c'è tempo ve lo spiego dopo. Scusate, vado avanti, poi torno indietro, faccio una cosa un po'... ecco qua. Chi, chi cantava queste, queste canzoni? Chi cantava Ora di Bai? Ora di Bai, peraltro, è scritta, da, un grande compositore di Mornas, che si chiamava Tavares, Eugenio Tavares, e qui siamo all'inizio del Novecento, Eugenio Tavares è un emigrante, è un emigrante che se ne va negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti? Perché negli Stati Uniti si forma, nella seconda metà dell'Ottocento, la più importante comunità di migranti capoverdiani, su cui potrei raccontarvi molte storie, e perché potrei farlo? Perché sono stato in quella comunità a raccogliere storie. Il progetto di cui si parlava nel mio profilo con il fotografo Filippo Romano era un dialogo tra storie e fotografie, io e lui siamo partiti, prima siamo andati a Capoverde, l'anno dopo siamo andati nella comunità dei capoverdiani del New England, la costa occidentale degli Stati Uniti, con Ericad, Massachusetts, eccetera, a raccogliere storie di migranti, di figli di migranti, di nipoti di migranti. E da dove veniva quell'immigrazione? Veniva dalla caccia alle balene. Queste sono foto di archivio naturalmente, uno è addirittura un dipinto un po' naif, ma è molto importante a livello iconografico perché i capoverdiani vanno via alla metà dell'Ottocento perché sono ridotti alla fame, faccio una piccola parentesi, le carestie colpiscono ciclicamente Capoverde almeno fino agli anni Sessanta del Novecento, ma carestie che decimano letteralmente la popolazione. Poi il clima cambia leggermente, Capoverde è un paese endemicamente messo malissimo, non cresce nulla, fa una relativa fortuna con il sale dal Seicento alla metà dell'Ottocento e poi non ha sostanzialmente altre risorse se non il turismo negli ultimi trent'anni e le rimesse degli emigranti. Ma cosa succede? Succede che prospettiva storica molto allargata nella seconda metà dell'Ottocento le città più ricche del mondo sono quelle che producono l'olio di balena. L'olio di balena con cui è fatto l'olio che alimenta l'illuminazione dell'Occidente. Providence New Bedford città che se oggi andate a farvi un giro da quelle parti trovate con i negozi del centro sbarrati con le assi di legno inchiodate città completamente decadute che in quel periodo erano le città più ricche del mondo del mondo e i porti di caccia alla balena erano i porti di quelle città voi tutti spero avete letto o sapete che esiste uno dei romanzi fondanti il romanzo fondante della letteratura nordamericana che è il Moby Dick ecco Melville è uno di questi marinai che voi vedete nelle foto e il Benito Sereno che è un'opera importantissima è molto probabilmente un marinaio e in Melville ci sono citazioni puntuali Melville a un certo punto dice quei marinai dalla pelle che non è veramente nera che arrivano da quelle isole atlantiche sono capoverdiani cosa fanno i capoverdiani le flotte delle baleniere che partono da quei porti Cape Cod Nantucket posti peraltro bellissimi partono da quei porti e stanno via un anno senza tornare dove vanno a reclutare le loro ciurme i loro equipaggi dove non costano nulla e Capoverde si trova esattamente sulle rotte della caccia alla balena un altro particolare importante beh il particolare importante è che i capoverdiani muoiono di fame quindi se arriva una nave baleniera americana e gli dice ragazzi avete bisogno di lavoro per caso certo perché sopravvivono ma l'altro particolare importante per questo ho scelto il dipinto è che i capoverdiani hanno imparato a usare l'arpione dai biscaglini già da citt'anni e sono degli arpionatori eccezionali sono dei maestri in più qui il nostro sociologo Gilberto Freire brasiliano importantissimo ci verrebbe a dare una mano sono conosciuti per il loro carattere particolarmente bonario sono bonario lo dico con gentilezza ma sono descritti come fatalisti accettano il loro destino non si ribellano mai attenzione sono cattolici e hanno hanno per di più la pelle mulata e questo è molto importante perché si spostano da un certo tipo di tipologia che la storia del razzismo ci racconta benissimo che è centrata legata sulla dimensione africana non sono africani non sono veramente africani sono atlantici vengono reclutati gli si prospetta una paga di tot dollari alla fine del loro percorso faticosissimo di caccia alla balena che dura sei mesi otto mesi un anno provano a riscuotere la paga ma è la vecchia storia del contratto no? gli si dice che sì quella paga era di cento dollari ma loro hanno mangiato hanno hanno bevuto rum hanno avuto la giacca per coprirsi quando c'era il temporale hanno avuto un qualche medicinale che alla fine non solo i cento dollari sono andati ma sono in debito di cinquanta e cosa vuol dire? vuol dire che la storia si ripete quindi loro si hanno un altro imbarco questo porta al fatto che quando le il il prodotto della pesca torna ai porti americani i capoverdiani si fermano e cominciano a creare una comunità ancora oggi la comunità capoverdiana più grande al mondo superiore ai capoverdiani che vivono a capoverde è quella del New England scusate torno indietro allora io qua in realtà su questa immagine avevo ci ho messo mezza giornata perché ho le mie competenze sono scarsissime avevo messo anche il link all'inizio cioè questa è una scena di un film ma non vedo il tastino play quindi cosa dura tre secondi proviamo a guardarla se no ve la racconto Adam mi dai una mano io giuro che ho messo anche su su online c'è un tutorial che che si chiama come non fare powerpoint e io fornisco i modelli abilità contenuto io ho fatto ho fatto la prova no infatti non vedo più no vabbè erano pochissimi pochissimi secondi questo è l'inizio di un film o il trailer di un film vabbè lasciamo l'immagine lui è Isaac de Bancolet e lei ah vai proviamo guardate questa immagine è durato poco ma è importante il vulcano si vede poco ok infatti erano pochi secondi che però vi spiego questo è un film molto bello molto potente è molto difficile da vedere io l'ho fatto vedere i miei studenti la metà dopo dopo una mezz'oretta erano erano piegati in due però fate un tentativo perché è veramente un grande un grande film Pedro Costa è un regista difficile è uno dei migliori registri portoghesi della sua generazione questo film si chiama Casa de Lava e si svolge tutto nell'isola di Fogo che è una delle isole principali dell'arcipelago di Capoverde è una un'isola vulcanica l'immagine velocissima che avete visto all'inizio di questo vulcano in eruzione è un'immagine d'archivio di Osvaldo Ribeiro Osvaldo Ribeiro è il maestro il grande maestro della geografia Osvaldo Ribeiro Orlando infatti mi diceva qualcosa Orlando Ribeiro è il grande maestro degli studi di geografia in Portogallo che ha filmato queste eruzioni straordinarie poi c'è stata ancora la penultima eruzione è questa firmata che è degli anni 60 poi ce n'è una degli anni 90 e questi sono Isaac de Bancolet e lei è la sorella di Maria de Medeiros che si chiama de Medeiros sicuramente Ines de Medeiros ed è una storia straordinaria di addio di abbandono una storia telluricamente potente in cui vi viene restituita una delle immagini anzi uno dei valori o dei materiali più scabrosi a cui si deve avvicinare chi lavora su Capoverde cioè questo isolamento questa povertà endemica questa solitudine e questa dimensione con la terra longe provoca spessissimo delle conseguenze a carattere mentale chiamiamole quella propria col nome vero follia delle forme patologiche di alteramento psichico che sono connotate hanno una connotazione specifica e una causa specifica proprio nell'isolamento della terra questo è un film su questo tipo di alienazione ecco la parola forse giusta che oggi magari chi si occupa di queste cose mi casserebbe però una volta si parlava proprio di alienazione e allora uno dei pericoli più forti di questa dell'effetto della terra longe è esattamente l'alienazione una solitudine esistenziale che porta a degli scompensi visibili proprio nei meccanismi di interazione tra persone e questa è la storia di un ragazzo capoverdiano che lascia le isole per andare a lavorare sicuramente Valeria e Vincenzo si ricordano Ada forse non stavi nascendo in quell'epoca quando ci fu un grandissimo incendio che devastò Lisbona devastò il centro storico della città e per anni e anni almeno dieci anni il centro storico si trasformò in un gigantesco cantiere chi lavorava in quel cantiere erano i migranti delle ex colonie erano tutti operai capoverdiani e angolani soprattutto e con una scarsissima attenzione ai meccanismi di sicurezza eccetera allora questo è un ragazzo capoverdiano che parte per andare a lavorare in un cantiere a un incidente e questo incidente gli permette il suo corpo moribondo quasi in coma viene portato a capoverde e praticamente abbandonato chi si prende cura di lui è questa infermiera portoghese che da Lisbona le dicono guarda hai un compito l'ospedale che cura il ragazzo dice hai un compito accompagni in aereo a capoverde a questo qua non sappiamo neanche chi sia non ha non ha i documenti lo porti lì e lei si fa carico di accompagnarlo e poi di rimanere con lui poi non vi faccio la spoilerata del film ma la cosa interessante è che questo ragazzo che ritorna dal coma prende una specie di alibi il suo incidente per poter dare spazio a questa dimensione di alienazione di alterazione quasi psicotica che attraversa tutto il film e quello che voglio dirvi perché l'ho scelta perché non è un caso la letteratura portoghese capoverdiana parla quando parla di terra longe insinua sempre questa dimensione di alienazione psicotica che pochi hanno ravvisato perché è molto più facile fare cosa archiviare in questo termine madre in questo contenitore meraviglioso su cui noi dibattiamo da tempo cioè saudade e pensare che in fondo non si tratta nient'altro che di quella di quel sentimento di appunto lontananza che ci fa commuovere ci fa scendere la lacrimuccia e pensare non so alla mamma matria terra lontana in capoverde c'è qualcosa di più e questo qualcosa di più che è terra lo terra longe va indagato va capito sta finendo il mio tempo io sono alla seconda slide ma mi prendo ancora cinque minuti mi dici tu questo banalmente avrei dovuto farvelo vedere all'inizio c'era solo una mappa dell'Africa per farvi vedere questa questa posizione delle isole che apparentemente sembrano vicine all'Africa ma questo mare sono cinquecentocinquanta chilometri che separa le isole dal capo del Senegal che si chiama Cap Ver Capo Verde e che dà nome il nome gli erano dato i viaggiatori genovesi e veneziani che sono arrivati lì per primi Nicolò Danoli Antonio Danoli eccetera 1465 l'hanno chiamato così perché erano stati sul capo senegalese molto verde mangrovie foresta pluviale eccetera arrivano su queste isole e le chiamano le isole del Capo Verde il verde io inciso anedotico personale miei genitori hanno vissuto dieci anni in quelle isole negli anni ottanta e mia madre quando tornava in Italia diceva ma dire il vero sto benissimo non mi manca nulla a parte il colore verde che veramente a Capo Verde nonostante il nome che anche questo insomma è una trappola del destino il verde in realtà non c'è non c'è poi non è vero perché ci sono c'è c'è un'isola Santiago del centro anche dei bananetti però insomma ma quello che volevo dire riguardando questa mappa è che il mare che separa queste isole è un mare difficilissimo da navigare è un Atlantico pieno di insidie e quindi l'isolamento è un isolamento del colonialismo del fascismo di Sarazar della storia delle isole un isolamento geografico lontane dal Portogallo lontane dal Brasile a cui hanno guardato per tanti anni come una specie di grande del Maudua Lenmar ma anche lontane dall'Africa a cui geograficamente appartengono i capoverdiani quando parlano di Africa dicono come se non fossero africani in più l'isolamento tra isola e isola perché voi le vedete così sembrano un po' le olie no no andare da un'isola all'altra è difficilissimo io mi sono letto e studiato a lungo la storia dei naufragi a Capoverde ci sono dei libri bellissimi ma queste sono altre storie ma torno un'altra volta e ve le racconto queste sono vabbè sono le isole Barlavento Sottavento Praia è la capitale di oggi Mindelo la vedete a San Vicente lassù in cima è la capitale di ieri ed è la città più tra virgolette cosmopolita adesso se c'è qualcuno a casa che è di Praia ma non credo si risentirà però c'è sempre un po' c'è sempre stata una lotta tra Praia e Mindelo questa è Mindelo una Mindelo dell'epoca nel suo momento florido dove ci sono soprattutto gli inglesi che costruiscono navi ci sono dei bacini di carenaggio importanti perché Capoverde è sulla rotta ancora oggi chi fa vela e vuole fare la traversata dall'Europa andare in Brasile andare in Sud America passa da Capoverde Capoverde fino agli anni 40 fino alla seconda guerra mondiale sicuramente e anche un po' fino agli anni 60 è sulle rotte dei grandi cargo che vanno verso le Americhe che tornano in Europa poi viene da un giorno all'altra sostituita con la Spalmas nelle Canarie e con Dakar e questo decreta un ulteriore passo verso l'abbandono l'isolamento la decadenza e Mindelo che era un po' una cittadina insomma vivace dove ancora oggi devo dire che l'eredità è forte precipita in una decadenza totale che implementa ulteriormente la grande emigrazione questa è la frase che riassume nella letteratura capoverdiana tutto questo paradosso esistenziale che rer partire ter che ficare che rer ficare e ter che partire sono due slanci opposti che ogni capoverdiano si porta dentro il più importante romanzo ancora oggi della letteratura capoverdiana è sentito la Scichigno è pubblicato in italiano con una ottima traduzione di Vincenzo Barca è scritto da Baltasar Lopes negli anni trenta è pubblicato negli anni quaranta prima ne escono alcune alcuni capitoli su una rivista importantissima che si chiama Claridade è la storia di un ragazzino è un Bildungsroman è una storia di formazione di un ragazzino sulla sua isola che guarda il mondo dalla punta del molo il molo questo luogo che io adoro perché è una simbologia gigantesca chi si occupa di Pessoa sa benissimo quanto è importante questo luogo che sta in mezzo alla terra e al mare non è veramente terra ma non è ancora mare questo ragazzino si siede in punta a questo molo fatto di assi sghembe dove arrivano i marinai a portare il pesce pescatori e guarda cosa guarda la linea dell'orizzonte guarda l'oceano e oltre a quell'oceano c'è il padre che è emigrato proprio in New England e la sua storia è la storia di un ragazzino che si dibatte fra queste due pulsioni voglio partire perché voglio conoscere mio padre perché voglio fare due soldi per sopravvivere perché voglio conoscere il mondo e poi c'è la pulsione intellettuale che è importantissima Capoverde non ha nulla e in questo nulla negli anni 30 nasce una delle riviste più importanti nella storia delle letterature postcoloniali Claridade ragazzi dell'ultimo anno di liceo uno che non studia neanche lavora come come funzionario della della Dogana che si mettono insieme fanno un ottimo liceo perché a Capoverde c'è un ottimo liceo dove si insegna la letteratura greca antica la letteratura latina il canone francese e questi si mettono insieme fanno una rivista che anticipa la negritude anticipa la generazione dei grandi importanti eh León Damas Sangor che stanno alla Sorbona di Parigi Capoverde arrivano prima di loro con poesie straordinarie con l'elevazione del creolo a lingua della letteratura elemento sovversivo perché il potere di Lisbona non vuole vedere il creolo scritto il creolo è la lingua con cui si possono cantare le mornas e loro aprono il primo numero di Claridade con il testo di una morna in creolo morna emotivo del Finasson siamo nel 1936 eh sono veramente quattro ragazzotti uno di loro è Baltasar Lopes che scrive Scicchini e in questo romanzo c'è veramente tutto quello che voi potete trovare madonna ho sbagliato proprio i tempi eh guardate questa foto che non so io io lavoro a Genova che è una città a Genova è stato il porto degli emigranti di tutta Europa verso Stati Uniti Brasile Argentina si partiva o da Hamburgo o da Genova e a Genova a venti passi dalla mia facoltà c'è la vecchia stazione marittima dove ancora adesso sulle 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 panche di legno ci sono incise coi coltellini le frasi addio mamma eh 4 aprile 1912 non ti vedrò mai più eccetera questa è la storia no? la storia delle persone che si spostano e Capoverde è fatta di questa storia ora di Bai che è l'inizio delle mie parole di oggi è l'ora dell'addio e questa fotografia ma io ho fatto io delle fotografie io ero un ragazzino al l'unico aeroporto di Sal io ho una foto dovevi trovarla da qualche parte di una donna incinta che si appoggia al vetro e guarda l'aereo sulla sulla pista no? e guarda il marito che parte e che probabilmente conoscendo anche la loro storia non vedrà mai più quindi quando vi parlo di dimensione alienata dimensione di sofferenza dimensione complessa di addio parlo di questo mh e questa è un'altra storia questo è Tarrafal ma oggi non c'è non c'è modo di parlare va bene io chiudo qua tanto poi ci prendiamo un momento per parlarmi tutti insieme e grazie scusate se mi sono forse dilungato di qualche minuto grazie 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 Roberto io vedevo gli studenti le studentesse seguirti proprio rapiti quindi spero che poi avrai modo magari di dire di tornare anche sulle slide che hai saltato eh presento quindi il nostro eh il nostro secondo ospite della mattinata Vincenzo Russo professore associato di letteratura portoghese brasiliana all'Università degli Studi di Milano eh sempre a Milano alla statale eh dirige la cattedra dell'Istituto Camões dedicata ad Antonio Lobo Antunes che i nostri studenti comunque conoscono e io parlo comunque vi cito spesso quindi parlo spesso di voi quindi già eh vi conoscono ehm oltre a numerosi saggi e articoli pubblicati in rivista o come capitoli di libri tra le sue pubblicazioni possiamo eh menzionarne alcune la curatela di Tenebre Bianche eh del eh duemila e otto Suspeita Dua Vessu eh del no quasi sì sempre del duemila e otto Suspeita Dua Vessu che era la tua monografia giusto di di dottorato altro volume importantissimo Tabucchio del novecento duemila e tredici e altro manuale eh fondamentale eh la letteratura portoghese quindi l'antologia che anche questa spesso è citata eh nel corso con insieme a Roberto Vecchi del duemila e diciassette ha curato edizioni italiane di vari autori portoghesi brasiliani africani di lingua portoghese tra cui Lima Barreto eh Pessoa Eduardo Lorenzo Essa De Queiroche Boccage Pepe Tela eh da luglio duemila e quattordici è segretario generale tesoriere dell'Associazione Internazionale de Lusitanishtesh ha collaborato con pagine culturali di Alias e il manifesto l'indice dei libri del mese mi fermo qua grazie Vincenzo a te la parola grazie allora buongiorno eh anch'io come come Ada sono piuttosto emozionato per una serie di ragioni eh oggi è una è una bellissima giornata eh per noi portoghesisti credo anche per l'Università di Siena eh ringraziamo il Dipartimento che ci accoglie il suo direttore ehm soprattutto perché penso che oggi dovrebbero unirsi un po' di tempi abbiamo parlato del passato abbiamo parlato del dell'insegnamento di portoghese e di brasiliano col professor Francavilla oggi celebriamo eh anche nel pomeriggio Antonio Tabucchi no? che ha che ha dato tanto alla portoghesistica italiana e spero che questa giornata anche attraverso l'Africa di lingua portoghese disegni un po' il futuro no? che il gli insegnamenti di letterature che che si scrivono che si esprimono in portoghese insomma trovino casa anche a eh a Siena ehm oggi vi 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 racconto una 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 storia in verità ehm che ha a che vedere con una doppia triangolazione eh una è proprio affettiva cioè Ada è stata allieva mia a Milano e poi è stata allieva di Roberto Francavilla a Genova e oggi è qui a Siena e con insieme a Roberto e a Valeria siamo anche qui proprio per come dire per unire questi tempi e questi spazi e poi c'è un'altra triangolazione che ha a che vedere col tema della della mia ricerca che è sintetizzata in questo volume che è uscito in pieno in pieno lockdown nell'aprile del 2020 il titolo di questo volume è La resistenza continua il colonialismo portoghese le lotte di liberazione e gli intellettuali italiani in cui io cerco di eh un po' sulla scelta delle cose che diceva eh Roberto Francavilla no? rispetto ai nostri maestri ehm la la nostra eh il nostro sforzo è quello un po' di eh di andare oltre il canone in questa ricerca eh incrocio varie discipline cioè c'è la storia la storia delle idee c'è la storia diplomatica di di questo triangolo l'Italia il Portogallo e e questi paesi che ancora non sono nazioni Guinea-Bissau Capoverde Mozambico ehm e Angola e poi le altre colonie no? che che però eh non 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 entrano in in questa in questa in questa storia perché non hanno non conoscono la il la 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 le lotte di liberazione non conoscono il momento armato di liberazione dal colonialismo eh portoghese lo sapete benissimo la guerra coloniale o guerra di liberazione eh ha un tempo molto eh definito dal sessantuno al settantaquattro si svolge su tre fronti eh Angola Mozambico e Guinea eh e Guinea-Bissau eh Capoverde è risparmiata no? dalla 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 tragedia della guerra eh coloniale eh cosa eh cosa cosa c'entra no? la la guerra coloniale con la letteratura con l'Italia eh col colonialismo portoghese mh allora l'idea dalla dalla quale parto è che a un certo punto in Italia in Europa dovremmo dire eh l'interesse per mh per per quei paesi è un interesse propriamente politico cioè ehm in Italia si si cominciamo ad accorgerci dell'esistenza della Guinea-Bissau dell'Angola e del Mozambico da un punto di vista culturale proprio sulla spinta della eh dell'emozione o delle informazioni non più filtrate dalla propaganda salazarista del di questo fascismo colonialismo no? che lo Stato Nuovo rappresenta no? una sorta di eh eccezione europea nel novecento eh e cominciamo ad interessarci no? eh di queste culture di queste società eh di queste antropologie dentro una storia complessa come quella italiana del secondo eh dopo guerra eh sicuramente sicuramente comincia ehm in Italia tutto un processo eh che ha come eh come eh punto come dire iniziale sicuramente la solidarietà politica rispetto alla agli algerini e ai francesi cosiddetti refracter no? quindi c'è un interesse per quello che in questo momento viene chiamato terzo mondo che è un oggi non fa più parte del come dire del lessico politico attuale è una categoria storiografica e geopolitica eh superata ma che per almeno cinquant'anni dagli anni cinquanta è un geografo che inventa questo termine terzo mondo almeno alla fine degli anni ottanta eh ha una sua valenza simbolica e geopolitica ehm sicuramente in Europa in Italia eh dalla guerra di Algeria in avanti comincia comincia quest'interesse verso i paesi e i popoli del terzo mondo soprattutto quei popoli del terzo mondo che devono come dire liberarsi ancora dal gioco coloniale di certe potenze eh europee tra queste potenze europee eh che non decolonizzano c'è appunto il eh Portogallo il Portogallo che dal eh dal 33 è sotto una dittatura eh che gli storici definiscono un un autoritarismo no eh mimeticamente copiato dal fascismo italiano sicuramente l'autoritarismo dello Stato nuovo non si comprende se non si comprende il il colonialismo portoghese questa cosa qui per gli studenti eh che studiano eh le letterature di lingua portoghese insomma deve essere deve essere chiare in questa dimensione di solidarietà verso il terzo mondo e verso i popoli che combattono per la propria liberazione c'è anche una dimensione che ho provato a studiare che è in questo libro che è quella culturale cioè eh ci si interessa per le culture prodotte da da questi da queste società da questi intellettuali ehm in particolare proprio a partire dagli dagli inizi degli anni sessanta si si capisce si comprende eh in Italia eh che eh studiare tradurre divulgare le letterature prodotte in quelle che in quel momento sono le colonie portoghesi eh in Africa e che stanno come dire eh eh che stanno ribollendo di rabbia no e che cercano la loro indipendenza la loro autonomia ehm è un è un gesto di solidarietà di solidarietà politica la letteratura è un'arma c'è una ehm mutuo questa espressione da un'intervista rilasciata da Agostino Neto Agostino Neto è un caso emblematico no eh poeta medico intellettuale a Portoghesado studia a Coimbra a Lisbona è un intellettuale che arriva dall'Angola nero ehm che per un quindicennio ha una eh limitata produzione poetica scrive in portoghese in una intervista all'Unità eh dice il mondo deve sapere io e i miei compagni abbiamo deciso di usare anche la poesia per far sapere per sollecitare solidarietà aiuto per i nostri fratelli da parte di tutte le forze vive dell'anticolonialismo eh dagli anni dagli inizio della guerra coloniale dal 60 61 almeno fino al 74 75 abbiamo eh in Italia una eh una costellazione di intellettuali di editori eh di gruppi di comitati anche con improbabili acronimi eh di associazioni eh più o meno legate ai partiti tradizionali non solo della sinistra ma anche della eh per esempio la democrazia cristiana no? del centro o legati ai sindacati eh che si occupano di divulgare le letterature il pensiero la teoria eh che arriva dall'Africa di di lingua portoghese ehm io ho ravvisato come ci sono almeno due momenti importanti no? eh il 61 che è una specie di di momento primigenio no? c'è un'antologia organizzata da Pasolini Pierpaolo Pasolini possiamo definirlo anche un intellettuale terzomondista eh quando uso la l'espressione terzomondista la uso nell'accezione per cui a un certo punto in Occidente in Europa c'è una sorta di euforia no? di identificazione con le lotte eh di quei di quei paesi Pierpaolo Pasolini che è anche un un viaggiatore del nel terzo mondo in Brasile India eh oggi stanno uscendo no? molte molti studi accademici sul sul Pasolini eh terzomondista e anche africanista nel 61 per la casa editrice del partito comunista italiano gli editori riuniti decide di pubblicare un doppio volume una doppia antologia stamattina parlavamo no? del del fatto che forse nel mondo editoriale italiano Roberto siamo al punto di svolta forse non abbiamo più bisogno di antologie ma le antologie partono da quel momento Pasolini fa un doppio volume di un'antologia di prosa e di poesia sulla cosiddetta letteratura negra il volume della poesia viene commissionato ad un intellettuale angolano di lingua pochese Mario Pinto d'Andrade Mario Pinto d'Andrade è un intellettuale anche lui come Agostino Neto come Cabral quelli che nella nel gergo storiografico sono definiti la geração de Cabral quelli che studiano in Portogallo spesso nelle case studiante di imperio di Porto con Lisbona o Coimbra ma Mario Pinto d'Andrade fondatore come con Agostino Neto dell'MPLA il Movimento Popolare di Libertazione d'Angola avrà poi un passaggio portoghese e una stabilizzazione in Francia a Parigi lavorerà per anni nella redazione di Presence African che è la grande rivista come dire dell'intellettualità africana non solo nera Mario Pinto d'Andrade proprio nel ricercando documenti per la mia ricerca in una lettera a Lucio Lara altro intellettuale altro guerrigliero dell'MPLA angolano fondatore addirittura del Partito Comunista angolano prima dell'MPLA dice ho preso contatto con alcuni editori romani disponibili a pubblicare libri nostri per ora basterà fornire una bibliografia e inizierò a dirigere una collana letteraria è importante riunire documenti libri insomma opere di attualità sulla nostra situazione lo scrive in una lettera del 59 quando a Roma quando Roma ospita la conferenza di scrittori artisti neri evidentemente questa questo passo di Mario Pinzio D'Andrade a Lucio Lara si riferisce proprio al contatto con editori riuniti e con Pasolini Mario Pinzio D'Andrade sarà il curatore dell'antologia poetica la la collana letteraria non la dirigerà mai non abbiamo notizie di questa collana letteraria sicuramente un altro momento importante in questa storia della ricezione delle letterature africane quella di Pasolini è come dire una un doppio un doppio gesto antologico onnicomprensivo dovremmo dire panafricanista non ci sono solo poeti e scrittori di lingua portoghese ma anche ovviamente no di tutti quegli scrittori che scrivono nelle lingue europee quindi Francia e Inghilterra quindi in francese e in inglese invece nel 69 abbiamo una un'antologia che tra l'altro riguarda molto da vicino anche le nostre come dire la nostra il nostro passato di portoghesisti uno dei grandi docenti era un filologo insegnava filologia a Roma la Sapienza Beppe Tavani nel 69 compie anche anche lui un gesto dirompente per quel per quel momento storico un gesto dirompente è la pubblicazione di questa poesia africana di rivolta Angola Mozambico Guinea Capoverde e San Tomè un accademico italiano di una delle più grandi università italiane Roma la Sapienza decide con l'aiuto fondamentale questa cosa qui bisogna ricordarla di Maria Carriglio Maria Carriglio in non ho la foto ma bisognerebbe omaggiarla è una sociologa portoghese in quel momento giovanissima elettrice elettrice di lingua portoghese a Roma la Sapienza aiuta Tavani nella raccolta del materiale e nella traduzione Maria Carriglio pubblica in quella l'anno dopo nel 71 uno straordinario saggio di teoria politica che si intitola Il Mostro Lusitano di cui anche in Portogallo si sa pochissimo perché viene pubblicato in italiano ed è una critica conduntente al regime fascista salazarista di Salazar Salazar che nel frattempo è morto Salazar cade dalla famosa sedia immortalata dal racconto di Saramago tutti abbiamo tifato per quel tarlo che ha corroso il legno e ha fatto cadere a terra ha fatto battere la testa Salazar Salazar resta in coma per due anni settembre del 68 luglio del 70 va bene Maria Carriglio quindi importantissima Maria Carriglio sempre nella ricerca scrive scrive a Mario Pinto Andrade scrive a Cabral tutte queste lettere le trovate nell'archivio della fondazione Mario Suarez Casa Comune in cui Maria Carriglio dice ma io sono a Roma voglio darmi da fare per aiutare i movimenti di liberazione eccetera eccetera questa antologia costa a un a un nostro collega il titolo di persona non grata con cui il il governo portoghese non non lascia entrare in Portogallo il nostro Giuseppe o Beppe Beppe Tavani tra queste due antologie quella di Pasolini del Pasolini degli anni sessanta sessantuno è l'antologia di di Beppe Tavani che chiede ancora una volta no una consulenza una mano a Mario Pinto D'Andrade Mario Pinto D'Andrade scriverà la postfazione di questa antologia abbiamo lungo tutti gli anni sessanta varie operazioni no di che raccontano no la storia della divulgazione della ricezione delle letterature africane di lingua portoghese quindi in una stagione no che io definisco no quella stagione della coscienza no terzomondista la stagione della coscienza terzomondista italiana è punteggiata sicuramente da una doppia dimensione c'è l'antifascismo italiano sono intellettuali che hanno partecipato nella maggior parte dei casi sono intellettuali che hanno partecipato alla resistenza italiana contro il nazifascismo ma che negli anni cinquanta e sessanta proprio grazie al terzomondismo acquisiscono una coscienza anticoloniale paradigma di questa di questa intellettualità italiana importantissima eh a noi pare che questa 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 costellazione di intellettuali sia in un certo senso stata un po' rimossa no dalla 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 memoria pubblica italiana ma tra gli anni cinquanta sessanta e settanta tantissimi intellettuali eh ho citato Pasolini eh potrei potrei citarne altri ne vedremo tantissimi altri anche piuttosto insospettati e insospettabili penso a Carlo Levi no lo scrittore di Cristo si è fermato a Eboli no l'esiliato politico mandato da Torino in quel terzo mondo d'Italia che era la Basilicata degli anni degli anni quaranta Carlo Levi per esempio è il curatore è il curatore della della paginetta eh dello Puscolino no per eh per la casa editrice eh l'Avanti del Partito Socialista in cui si pubblica questa cosa questa è una storia straordinaria una poesia in italiano di poesia di Agosti Gnoneto il cui originale portoghese non è stato mai ritrovato quindi nel quando 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 le leggerete la 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 obra poetica completa di Agosti Gnoneto non troverete mai questa poesia perché esiste solo la traduzione italiana a curare la traduzione italiana è proprio eh Eno Calabria è Carlo Levi no che è di Fanno questo piccolo puscolino con disegni, dimmi, dimmi. Probabilmente sono loro che traducono, quindi non sappiamo neanche se Agostinio Neto abbia data in francese o in portoghese, immagini in portoghese. Ve la leggo perché è un documento piuttosto importante, forse anche divertente, significativo. Angola come Milano. La scrive Agostinio Neto nella primavera del 63, quando a Milano arriva per presentare questa antologia importantissima di cui fra un po' parliamo. Angola come Milano. Ci sono uomini e donne, quindi ve la devo leggere in italiano, quindi non abbiamo il portoghese. Camminando per le vie, vedo che è molto milanese, ci sono uomini e donne, no? Io avrei tradotto, avrei messo ci sono, no? Ma ci sono uomini e donne camminando per le vie di Milano non curanti della pioggia di questo inverno rigoroso. Ci sono ristoranti pieni di chiasso, gallerie d'arte, pieni di quadri e manifesti pieni di donne belle e titoli famosi. Ci sono migliaia di vetture in guerra, disordinatamente, come noi, nelle nostre lotte giorno per giorno, la civiltà vecchia e storica e le lotte di oggi. Le parole degli amici filtrano nel prisma delle mie preoccupazioni. E non sento la pioggia perché penso alla roccia di Sant'Antonio, tra gli scogli del Capoverde. Agostinio Neto è stato prigioniero politico, no? A Capoverde. Spruzzati dall'oceano dove il fascismo mi teneva a pensione, no? E' là che il 4 di febbraio mi giunse la notizia che ancora mi risuona nelle orecchie. Il 4 febbraio del 61 è il primo attacco dei nazionalisti, dei guerriglieri angolani a postazioni del potere coloniale a Luanda in Angola. E' là che il 4 di febbraio mi giunse la notizia che ancora mi risuona nelle orecchie. Gli amici mi parlavano della storia, delle tradizioni, degli edifici e del sangue dei partigiani, sulle pagine che scriviamo insieme per la libertà degli uomini. In questa poesia c'è una idea che è stata centrale nella mia ricerca. Cioè, gli intellettuali antifascisti che diventano, grazie al terzo mondismo, anticolonialisti in Italia, a un certo punto si innamorano, si lasciano affascinare da quest'idea che è una identificazione. Cioè, le lotte di liberazione del terzo mondo, Algeria, le colonie portoghesi in Africa, non sono altro che una prosecuzione, una continuazione della nostra resistenza. Una citazione che faccio spesso a lezione, nei vari posti in cui mi invitano a parlare, è una bellissima, bellissima, tra l'altro, come dire, anche molto attuale. Pensando alla battaglia semantica che oggi occorre in questo... La guerra esiste, cioè la guerra c'è, la guerra è cronaca. Ma sappiamo oggi, no? Come la ogni guerra è anche una battaglia semantica, una battaglia di retoriche, no? Di dichiarazioni, a volte anche di fake news, no? Che arrivano oggi più che mai, dove tutti noi possiamo essere reporter di noi stessi. Questa dichiarazione è centrale per quest'idea che io ho cercato di ripercorrere. Cioè, la resistenza italiana è una specie di antefatto delle lotte di liberazione, o meglio, le lotte di liberazione del terzo mondo sono la prosecuzione della resistenza. Scrive uno di questi intellettuali di cui mi sono occupato, Giovanni Pirelli. E' proprio il Pirelli quello delle gomme, quindi figlio, no? Rampollo di una grande dinastia imprenditoriale italiana, che a un certo punto entra nella resistenza, alla fine della guerra decide di entrare nel partito socialista e rompe con la famiglia durante molti anni. E poi, insomma, c'è una riappacificazione. E proprio grazie ai soldi della famiglia dei Pirelli, Giovanni Pirelli combatte la sua battaglia culturale, editoriale, entra in Enaudi, Pirelli sarà il grande divulgatore di Franz Fanon, la Bibbia dell'anticolonialismo africano in quegli anni, compra l'edizione dell'Avanti, fonda Centri, il centro di documentazione Franz Fanon, cioè fa tutta un'attività a favore del terzo mondo, diciamo così. Ricordatevi che la resistenza non è affatto finita con la disfatta del fascismo. Perché sta, usa questo ricordatevi? Perché si dirige a qualcuno, a voi? Si dirige a... Qui non c'è. Si dirige agli studenti italiani. Gli studenti italiani sono, come dire, il lettore scelto da Pirelli. Perché questa espressione, questa citazione che vi faccio, è nell'introduzione alle lettere della resistenza europea. Le lettere della resistenza europea è un progetto che Pirelli, fin dagli anni 50, insieme a Piero Malvezzi, sta cercando di organizzare. C'è quella di scrivere una storia dal basso. Non la storia della resistenza solo come storia militare, di capi, di vincitori, eccetera, eccetera, ma attraverso le testimonianze di chi ha combattuto. Lettere anche di persone che magari erano semi-analfabete, no? E che lui raccoglie in Italia e in Europa. E si dirige agli studenti italiani. Le lettere della resistenza europea le hanno lette varie generazioni di studenti italiani. Ricordatevi che la resistenza non è affatto finita con la disfatta del fascismo. È continuata e continua contro tutto ciò che sopravvive di quella mentalità, di quei metodi. Contro qualsiasi sistema che dà a pochi il potere di decidere per tutti. Continua nella lotta dei popoli soggetti al colonialismo, all'imperialismo, per la loro effettiva indipendenza. continua nella lotta contro il razzismo. Insomma, finché ci saranno sfruttatori e sfruttati, oppressori e oppressi, chi ha troppo e chi muore di fame, ci sarà sempre da scegliere da che parte stare. Sembra quasi, no? Un testamento per le generazioni future e forse parla anche molto della sua vicenda personale, no? Lui, no? Pirelli, un uomo completamente diviso anche dalla sua storia personale e familiare. Rapidissimamente, parliamo di questa che ormai è diventata un'eroina, non solo per me. Vedo Valeria che sorride, perché Valeria ha studiato un po' le rese traduttive, no? Le rese traduttive, ovviamente, insufficienti, no? Di questa pioniere, no? Delle traduzioni della lingua portoghese. Però questa storia, la storia di Joyce Lussu, no? Di Gioconda, Beatrice e Salvadori, racconta, come dire, allo specchio anche, come dire, anche i chiaroscuri della nostra disciplina. La nostra disciplina è una disciplina che comincia, no? Ad essere stabilizzata. Nel 46 in Italia arriva un signore che era stato in Portogallo, che era un diplomatico fascista, conosceva il portoghese, e nel 46 gli viene data il primo insegnamento alla Sapienza di Roma. Poi, no? Si trasferirà a Napoli. Quindi è una disciplina, come dire, che non ha una storia profondissima. Negli anni 50 e negli anni 60 erano pochissimi coloro in Italia che conoscevano il portoghese, come dire, per un uso professionale della lingua, no? Per essere attrezzati professionalmente a tradurre dal portoghese. Tanto più dal portoghese, come dire, scritto da questi pensatori, poeti, scrittori africani. Joyce Lussu è un esempio paradigmatico, no? Di una traduttrice, sicuramente non accademica, sicuramente non accademica, ma che ha imparato il portoghese in una maniera super rocambolesca, sicuramente in una maniera anche avventurosa, come le sue stesse memorie ci ricordano. Joyce Lussu, durante la resistenza, deve fuggire dalla Parigi occupata dai nazisti, lei è una partigiana clandestina, insieme al marito Emilio Lussu, fugge da Parigi e attraversa la penisola iberica. Nelle sue memorie addirittura si dice che attraversi la penisola iberica a piedi. Noi non lo sappiamo se, forse un po', sapete, il gesto memorialistico è sempre un po' autopromozionale. Non lo sappiamo se davvero ha. Però dobbiamo ricordare che attraversato le polizie fasciste di Franco e di Salazar, arriva a Lisbona nel 41 e per sei mesi sotto falso nome vive con il marito, con il secondo marito, altro padre della patria, Emilio Lussu, fondatore di giustizia e libertà, vive a Lisbona e si iscrive alla facoltà, alla facoltà dell'Ettrash e impara un po' di portoghese, un po' di rudimenti di portoghese. In una famosa in una famosa brano memorialistico dice ci ripensai al Portogallo vent'anni dopo per l'interesse che portavo a un grande poeta dell'Angola. Ma non era questa la... Ecco, mi ero iscritta regolarmente con il mio nome e cognome, fidandomi nei limiti intellettuali della polizia fascista. Difficilmente mi avrebbero cercato nelle aule universitari. Per sei mesi, nel 41, sotto il falso nome di Laskowski, vivono a Lisbona. Negli anni 60, proprio con questi pochi rudimenti di portoghese, Joyce Lussu, in questa sua euforia terzomondista, Joyce Lussu ha già tradotto per esempio un poeta turco, pur non conoscendo il turco, attraverso la mediazione francese ha tradotto Nazim Hikmet, si avventura, no? Nella traduzione di alcuni grandi poeti africani di lingua portoghese, in particolare due. E sono Agostinho Neto e... Agostinho Neto ve lo faccio vedere, è una fotografia molto bella, eh? di Agostinho Neto, eccolo qui, Agostinho Neto e Joyce Lussu. Questa è una fotografia degli anni 70, no? Del 76, l'anno in cui l'Angola, l'MPLA, dà una onorificenza proprio a Joyce Lussu e a Mario Albano per gli aiuti, di solidarietà, per aver aiutato, no? la lotta di liberazione. Joyce Lussu invece qui sembra un'attrice, tanto che è bella. Scusate, non so se posso esprimermi così, ma insomma, alle femministe non piacerà, ma devo riconoscere, insomma, una certa bellezza in Joyce Lussu. Joyce Lussu pubblica nella primavera del 63 questa antologia che è importantissima. Oggi, oggi, gli africanisti che si occupano di Agostinho Neto riconoscono, nonostante i limiti traduttivi, nonostante, nonostante le rese a volte equivocate, no? Di parole, soprattutto dal portoghese di Joyce Lussu, riconoscono a questa antologia un ruolo importantissimo, un ruolo importantissimo perché fino al 63 Agostinho Neto aveva pubblicato poco e male e quindi era difficile trovare anche proprio il supporto testuale, no? Da cui, da cui tradurre, no? Noi oggi siamo abituati, no? Abbiamo il libro, ci mettiamo con il libro, con il pdf davanti alla nostra tastiera e traduciamo. Il problema principale di Joyce Lussu era trovare proprio le poesie, no? Di Agostinho Neto. Le poesie di Agostinho Neto, lei le aveva lette alcune in traduzione inglese, come racconta, e si era innamorata di questo poeta. Allora bisogna andare a cercare i testi di Agostinho Neto. Lei cosa fa? Nel 62 va in Portogallo alla ricerca di Agostinho Neto. Perché in Portogallo? Perché Agostinho Neto nel frattempo ha cambiato prigione. È in prigione all'Algiube, dove sono custoditi, imprigionati i prigionieri politici. Vicende straordinarie che le racconta, non riesce, va con questo, scusate, va con questo, con questa lettera di Alberto Mondadori. Alberto Mondadori scrive una lettera che consegna a Gioes Lusso e che Gioes Lusso avrebbe dovuto dare ad Agostinho Neto. Qui il contratto di edizione che ho trovato nei documenti a Torre du Tombo della PID, la PID conservava il contratto di traduzione di Mondadori che Agostinho Neto riesce poi a firmare. Insomma, la vicenda della traduzione è piuttosto complessa, a fare da mediatrice, noi che qui in un certo senso siamo tutti dei mediatori tra lingue, tra letterature, la mediatrice fra Gioes Lusso ed Agostinho Neto che è in carcere e che quindi Gioes Lusso non può vedere è la moglie, la moglie bianca e portoghese di Agostinho Neto, Maria Eugenia, che va ogni mercoledì in carcere, ricorda a memoria le domande che Gioes Lusso le fa e riporta alcune poesie a memoria che Gioes Lusso trascrive e poi ovviamente ingloba in quella antologia, no? Antologia è bilingue in portoghese e in italiano, quindi capite anche la precarietà del supporto testuale. Insomma, 63 arriva a Milano, tra l'altro nel libro racconto anche delle varie peripezie forse anche legate alla costellazione di intellettuali anticolonialisti, antifascisti italiani, della fuga di Agostinho Neto, perché a un certo punto Agostinho Neto deve fuggire dal Portogallo, è in libertà condizionata, alcuni membri del Partito Comunista portoghese, clandestino, probabilmente con l'aiuto anche economico degli italiani, riescono a portare fuori dal Portogallo Agostinho Neto e la sua famiglia, lo portano in Marocco e poi insomma in Africa, nell'estate del 62 e nel 63 arriva a Milano. Questa fotografia è emblematica Alberto Mondadori, Agostinho Neto, Joyce Lusso e Emilio Lusso, cioè uno spaccato di 50 anni di storia culturale, editoriale e italiana e c'è un grande oggi canonico poeta dell'Africa di lingua portoghese, fondatore dell'MPLA e poi forse dico una cosa ovvia e banale, primo presidente dell'Angola indipendente 75-79, morirà piuttosto giovane Agostinho Neto nel 79. Altra traduzione importante di Joyce Lusso sempre in questo decennio, anni 60, vado avanti, nel libro poi trovate anche cose piuttosto divertenti come l'incontro di Joyce Lusso con il comandante della PIDE, quindi con con questo dialogo piuttosto surreale. Vado verso la conclusione del mio intervento, questo è un volume che Joyce Lusso pubblica nel 67 per Mondadori in cui lei racconta in che modo ha tradotto i poeti del terzo mondo, c'è un capitolo dedicato all'Africa di lingua portoghese che si intitola Africa fuori di Portogallo. È importantissimo ricordare come per Joyce Lusso quel portoghese come dire rudimentale imparato durante la resistenza diventi davvero la lingua dell'anticolonialismo. Altro caso di grande operazione culturale editoriale forse meno diciamolo ancora una volta forse meno grande operazione traduttiva per i limiti strutturali della cosa è l'antologia di un altro poeta importantissimo premio Camoin mozambicano José Craverigna nel 66 esce per Lerici casa editrice importantissima in quegli anni con una collana di poesia importante per noi che studiamo portoghese fondamentale nel 69 uscirà la prima grande antologia delle poesie di Fernando Pessoa curate da Panarese nel 66 Cantico a un dio di Catrame con la prefazione di Joyce Lusso in cui Joyce Lusso racconta proprio tutte le avventurose vicende vicissitudini legate alla ricerca ancora una volta dei testi di José Craverigna abbiamo un poeta che è in prigione questa volta in Africa nella capitale del Mozambico coloniale che allora si chiamava Lorenzo Marquez l'attuale Maputo e Joyce Lusso va a Lorenzo Marquez nel 66 alla ricerca delle poesie in particolare del poeta non incontra neanche questa volta il poeta perché Lapid ovviamente lo tiene ben ben stretto in carcere ancora una volta è una donna a fare da mediatrice la moglie di José Craverigna concludo il mio intervento questo qui è il doppio Craverigna da giovane oppositore del fascismo e del colonialismo portoghese Craverigna negli anni probabilmente negli anni 80 80 o 90 muore nel febbraio del 2003 negli anni 90 Joyce Lusso vi ricordo muore nel 98 ancora si impegna in un certo senso a riprendere no quelle sue quelle sue produzioni nel 94 esce una biografia di Joyce Lusso su Agostinio Neto che era un progetto degli anni 60 nel 91 esce per il centro internazionale della grafica di Venezia una nuova antologia di José Craverigna dal titolo Voglio essere Tamburo questa volta con la curatela doppia di Anna Freso e di Joyce Lusso e con i disegni di Bertina Lopez Bertina Lopez pittrice artista plastico mozambicana anche lei con un vissuto romano italiano molto molto stratificato molto ampio finisco con una straordinaria questa è una delle citazioni preferite dalle mie studentesse e dei miei studenti sempre dalle memorie di Joyce Lusso casalinga repressa o anticolonialista militante l'ho intitolata Emilio Emilio Lusso vi ricordo partigiano fondatore di giustizia e libertà uno dei grandi padri della patria uno che scrive la costituzione italiana senatore per il partito socialista per tantissimi anni Emilio mi faceva notare con aria divertita che sul mio passaporto spesso rinnovato perché le pagine erano tutte piene di visti di entrata e di uscita per i paesi più strani c'era ancora scritto casalinga la verità è che sono una casalinga repressa rispondevo io la casa mi piace la casa no siamo partiti dalla casa la casa mi piace straordinariamente soprattutto la casa con una famiglia dentro ma se ci so troppo la società italiana mi insulta e mi squalifica mi tratta da subalterna termine gramsciano come sappiamo come di una persona che è viva del riflesso dell'altra mi riduce ad un appendice perciò sono costretta a reprimere le mie aspirazioni domestiche e a partire per il Mozambico a presto diceva Emilio grazie mille vieni Ada mi rimaschero grazie Vincenzo allora bellissima citazione bellissimo intervento anche questo con il tuo libro che hai mostrato giustamente hai riscoperto tantissimi tesori nascosti e probabilmente c'è ancora tanto da scrivere tanto da lavorare e tanto anche da tradurre in italiano quindi riprendiamo non voglio togliere tempo quindi all'intervento della nostra prossima relatrice Valeria Tocco che invito qui poi mettiti dove vuoi io mi sposterò allora ve la presento molto brevemente ma anche lei già è una nostra conoscenza allora Valeria Tocco professore ordinario di letteratura portoghese brasiliana al dipartimento di filologia letteratura linguistica dell'università di Pisa oltre a lavori di ambito linguistico traduttologico è intervenuta su temi moderni e contemporanei si è dedicata a ricerche relative ai secoli sedicesimo diciassettesimo producendo lavori di taglio prevalentemente filologico ha dedicato in particolar modo a Luis de Camões numerosi studi tra cui l'edizione commentata del poema epico Ushlu Ziyadash e una monografia sulla tradizione manoscritta del poema è utrice lo sappiamo bene di una breve storia della letteratura portoghese dalle origini ai giorni nostri pubblicata nel 2011 ha tradotto prosa e poesia tra cui ne cito solo uno il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa pubblicato nel 2011 ha vinto numerosi premi di traduzione e anche qui cito soltanto forse l'ultimo premio alla traduzione del 2019 premio alla traduzione del testo teatrale seicentesco di Francisco Manuel De Melo l'aspirante gentiluomo traduzione eseguita con Sofia Morabito che tra l'altro tra le altre cose è qui con noi e dunque mi faceva piacere salutarla allora Valeria ti do la parola grazie grazie a te Ada io però mi metto di qui perché così riesco a spero di essere breve e non troppo noiosa nella in questo mio intervento che appunto come vedete ecco il mio titolo invece al contrario di quello del del professor Francavilla è veramente tristissimo perché non mi è venuto in mente infatti quando glielo ho dato ad Ada dico guarda non mi viene in mente altro e scusa tu allora anche in questo caso appunto mi piace ricordare ancora il il volume di sulle letterature africane di lingua portoghese che sta per uscire nel quale appunto abbiamo collaborato tutti e nel quale io appunto faccio un piccolo accenno sulla questione dell'epica africana anche perché di epica africana effettivamente soprattutto dagli anni settanta appunto dal momento in cui dopo appunto l'autodeterminazione nel mentre appunto alcune molti delle degli spazi politici africani si stavano per affrancare dal colonialismo l'interesse appunto anche dell'Occidente sulle realizzazioni ovviamente prevalentemente orali della riformulazione epica di miti e tradizioni autoctone appunto si stava sviluppando al contempo nelle prove tra virgolette scusatemi passatemi il termine di rivisitazione di alcuni snodi del modo epico specificamente autori africani si stavano appunto cimentando per cui tra la traduzione tra la ricca tradizione orale autoctona che appunto si veniva a partire degli anni settanta diffondendo divulgando studiando insomma riceveva l'attenzione anche della critica e della e della della storiografia parimenti sempre in quegli anni alcuni autori specie di lingua portoghese almeno per quanto ci riguarda nell'Africa di lingua portoghese coniugavano una tradizione autoctona culturale autoctona con i grandi o i piccoli insomma con la tradizione però appunto occidentale che era poi la cultura della scolarità a cui avevano accesso da queste due appunto da questi due poli universi scritturali nasce appunto nascono moltissimi testi che possono essere o prosa o poesia che possono essere appunto annoverati nel cosiddetto modo epico no il modo epico come appunto quel principio organizzativo dell'immaginario no che si concretizza nei singoli generi e che Zatti per esempio nel suo librino proprio sul modo epico definisce nel modo appunto che vedete qui per cui epico è un evento che stabilisce un qualche preciso rapporto con il sublime degli archetipi e dei modelli del passato nello specifico se pensiamo all'epica africana ovviamente gli archetipi e i modelli del passato sono anche duplici e sono molteplici e a volte almeno nelle generazioni che hanno scritto e hanno prodotto negli anni 70 80 fino a quegli anni lì perché la tradizione la formazione appunto avveniva sia sulla base della della diffusione orale ancora della cultura autoctona ma soprattutto dalla attraverso appunto le scuole che ovviamente visto la situazione coloniale erano di tradizione occidentale per cui con i sublime memorie del passato che collega più o meno esplicitamente le sue determinazioni contingenti a valori antichi improntati a una visione eroica del mondo e depositati nella memoria storica di una collettività per cui tradizionalmente l'epica precede la storiografia ed è come ricorda appunto Zatti anche quella prospettiva che che ha il genere che instaura la letteratura e però appunto nel corso del suo uso e riuso praticamente si consustanzia anche in una poesia nazionale che rappresenta la presa di coscienza di una collettività che una collettività opera su se stessa e dei suoi interessi realizzandosi in momenti precisi di una vita storica di una nazione nel periodo appunto della sua formazione per cui epica con formazione con dimensione celebrativa esaltazione di di un di un di un concetto di patria il culto dell'eroe è diciamo così una delle caratteristiche che è stata definito che che definisce il il modo epico nella e soprattutto nella tradizione appunto africana nelle soprattutto nelle lingue europee la dimensione epica è sempre spesso stata messa in relazione a quello che veniva viene chiamato literature di combattimento ovvero quel tipo di letteratura che da una certa fase dello sviluppo delle letterature eh nazionali autoctone eh che si cercavano di usare eh la lingua del eh del colono e la cultura del colono però per affermare qualcosa di eh di proprio eh si venivano appunto ehm ehm elaborando eh per cui la letteratura di combatt quella che appunto è stata definita letteratura di combatt ehm è tutta quella appunto letteratura che non è che stimoli la guerra ecco però che vuole appunto affermare o storicizzare cioè vuole stimolare una presa di coscienza dei propri valori ehm locali eh con non contro ma ehm per metterli diciamo così sullo stesso piano valutativo di valori eh rispetto a quelli che gli venivano imposti cioè prima Roberto Francavilla parlava di Claridade e uno dei di questa rivista appunto degli anni trenta eccetera che parla che mette il creolo nel creolo in prima pagina che ovvero da lì si inizia per esempio a Capoverde una presa di coscienza del fatto che la letteratura e la lingua e la cultura locali non sono subalterne rispetto alla eh alla cultura alla lingua e alla letteratura che viene imposta dalla colonizzazione ma hanno lo stesso grado di appunto di letterarietà di valore intrinseco e per cui possono essere affiancate appunto anche al alle letterature e alle e alle nozioni appunto di delle lingue dei dei coloni dei colonizzatori per cui in questo senso molti autori cominciano appunto a mettere in letteratura in qualsiasi genere può essere poesia può essere teatro può essere romanzo una riflessione di tipo fondazionale cioè noi dobbiamo attraverso le nostre produzioni letterarie letterarie fondare o rifondare una una un'idea di nazione un'idea di comunità che è nostra che è nostra ma che è anche un'addizione tra cultura locale e cultura che ci hanno insegnato tutto questo appunto è interessante soprattutto in certi luoghi come per esempio Capoverde Capoverde è veramente un laboratorio è un laboratorio che precede o che che sta alla base ed è ispirazione anche per altri momenti letterari di altre di altri luoghi della che parlano portoghese in Africa ed effettivamente a Capoverde noi troviamo curiosamente due autori che oltretutto si si conoscevano anche molto bene avevano uno stretto legame anche anche un po' polemico se vogliamo tra di loro che sono appunto ehm João Manuel Varela che ha vari pseudonimi eh o eteronimi lui stesso li chiama eteronimi ehm li chiama eteronimi perché effettivamente ehm eh stabilisce per ciascun nome un tipo di ehm di intervento letterario per cui ehm appunto ehm Manuel Varela adesso vedremo ehm che col con il nome di Timoteo Teotiofe eh scrive appunto il primo e il secondo Vivro di Noccia e Corsino Fortes che con Cabeza Calva di Deus che raccoglie la trilogia che come vedete vedete che iniziano entrambi uno nel settantacinque l'altro nel settantaquattro per cui diciamo che la fase la prima fase di elaborazione di queste di questi testi eh precede l'autodeterminazione no? Per cui sapete che come abbiamo visto la guerra coloniale finisce nel settantaquattro nel settantacinque tutte le colonie praticamente ehm sono repubbliche indipendenti eh per cui eh diciamo che la prima fase eh dell'elaborazione di questi testi si colloca nel momento della lotta propriamente eh ehm mentre le altre si collocano di più eh più avanti per cui ehm in questo almeno in questi due ehm in questi due ehm in queste due opere noi troviamo un disegno eh adesso lo vedremo un po' più eh nello specifico ehm per cui per non allungare molto il discorso anche ad altri tipi di eh di altri generi letterari come il romanzo perché per esempio il famoso romanzo non so se l'avete eh l'avete mai letto eh o eh Maiombe di Pepe Tela eh che anche quello è un romanzo scritto durante il conflitto armato Pepe Tela grande scrittore eh angolano eh guerrigliero eh appunto faceva parte dell'esercito dell'MPLA che combatte contro eh i portoghesi per l'autodeterminazione durante propriamente il il periodo della guerra scrive questo romanzo sul sulle eh sulla vita dei guerriglieri e le dinamiche eh tra di loro eh all'interno del Maiombe il Maiombe è una una zona eh che fa parte della dell'enclave di Cabinda eh nella geografia dell'Africa per cui l'Angola eh ha un territorio che è separato geograficamente di poco dall'Angola è in pieno Congo diciamo eh e lì eh c'è la foresta del Maiombe in quella eh in quella zona i eh guerriglieri avevano delle basi eh che eh da cui appunto partivano per fare azioni nel nord dell'Angola ed erano vicini appunto a Brassville insomma avevano le basi poi eh dei delle eh dei capi diciamo così fuori dal territorio eh appunto per eh cercare di mantenere eh per non essere eh arrestati presi insomma dai dai portoghesi eh Cabinda è quell'enclave in cui si era scoperto il petrolio nel e per cui il Salazar lungimirante eh perché Salazar poteva essere tutto però eh politicamente ed economico non era affatto eh stupido quando eh hanno scoperto il petrolio a Cabinda la sua reazione è stata eh questa frase bellissima che è ci mancava anche questa eh questa disgrazia perché effettivamente poi il petrolio vuol dire appunto interessi internazionali interessi internazionali che sovvenzionano magari appunto le parti avverse al proprio al proprio regime come effettivamente è successo comunque questo non importa per cui non appunto in questo romanzo Maionbe questo romanzo Maionbe è stato più volte eh interpretato appunto anche dal punto di vista della modalizzazione epica dell'impresa eh dei guerriglieri della eh angolani dell'MPLA eh di questo non non parlerevo io volevo solamente far vedere eh due o tre cosine ma un'altra cosa su cui si potrebbe e non e non ci sono studi in questo senso è il rapporto tra tutti questi testi Maionbe stesso ma anche tutti i testi eh di cui anche vi parlerò brevissimamente oggi ma anche altri che sono stati ehm elaborati in eh nel nell'Africa che parla che parla portoghese eh con appunto l'intertesto e il rapporto con i Lusiades di eh Luis de Camuix Lusiades che voi spero che sappiate cosa sono ma il poema epico per eccellenza un poema scritto in ottava rima no che eh che parla dell'espansione dei eh dei portoghesi eh nel mondo eh parla anche di quinto impero e di anche di tantissime altre cose eh anche inuce anche delle degli elementi disforici che poi sono stati presi per esempio a eh sono stati focalizzati appunto in altri testi però la cosa interessante è che per esempio la letteratura africana e lingua portoghese al contrario di quella di lingua inglese no postcoloniale non ha scritto molto non ha usato molto quella lo statuto del writing back to the center no il riformulare eh e ribaltare alcune cose e eh tuttavia se un testo effettivamente è stato mh lo si legge nel al contrario no in alcuni eh altre produzioni degli dei degli autori africani di lingua portoghese è proprio i eh lo si vede appunto in controluce eh e eh lo si nota per esempio appunto eh nelle famose Kibirikes Kibirikes eh del settantadue che eh si collocano come una anti-epopea come una controimmagine eh del del Portogallo in Africa che ilusia das Dicamões eh aiutavano la propaganda eh eh salazarista a eh a diffondere eh non so se riusciremo a dire qualcosa sulle eh sulle Kibirikes ma comunque eh João Manuel Varela eh come dicevo eh eh usa vari pseudonimi come João Vario Gete Di Diol Timotio Tiotiofe ciascuno con un tipo specifico di produzione poetica mh Corsino Fortes che sarà appunto il suo il suo eh come dire il suo discussant posso chiamare posso anche chiamarlo così quasi no eh lo chiamava in una in una composizione in una poesia di quell'altra opera di cui vi parlerò tra poco lo chiamava Negro Greco Latino eh a proposito no del gran liceo che c'era effettivamente a Mindello sia eh Timotio eh João Manuel Varela sia eh Corsino Fortes e anche tutta la la loro generazione effettivamente furono formati da grandi eh professori del eh del liceo eh soprattutto perché entrambi sono di eh di Mindello sono di eh di quella parte lì del delle eh delle isole eh João Manuel Varela effettivamente fu eh eh molto criticato durante la sua la sua vita perché eh fu uno di quelli che emigrarono eh lui poi si costruì una grande carriera di medico lui era un eh com'è che si dice non era un neurochirurgo ma era un neurobiologo eh eh e studiò a eh in Portogallo e poi si trasferì e studiò in Portogallo e oltretutto eh lavorò all'ospedale di Santa Maria eh di Lisbona eh con il papà di eh di Lobo Antunes eh e poi eh ha vinto un concorso ad Anversa e si eh passò la vita lì però poi tornò a Capoverde eh la sua poesia eh è incompleta per cui anche lui aveva intenzione per esempio di scrivere dodici esempi exemplus mentre ne usciranno eh solo nove aveva intenzione di scrivere anche un terzo libro di Noccia ne escono solo due eh per cui un'opera un po' incompleta lasciata ci sono degli appunti magari appunto eh chissà se in un se si eh se si potranno poi eh insomma studiare un po' in modo più approfondito eh quello che è importante della sua produzione è anche la sua eh grande eh propensione metà letteraria lui eh scrive queste epistole eh queste epistole che poi vengono eh incluse nel nell'edizione del 2001 che raccoglie il primario e il secondo il libro di Noccia eh vengono appunto eh incluse perché sono delle riflessioni sulla sua stessa eh opera letteraria e sull'opera letteraria eh di Capoverde eh sono molto importanti anche queste epistole perché ci danno appunto la dimensione eh delle opera dell'operazione che lui voleva eh mettere in atto eh per la dimensione epica appunto lui è un grande lettore lui ma non solo lui come abbiamo già anche visto con un grande lettore dei classici ma dei classici eh latino eh greco-latini no? per cui Ilia d'Odissea ma anche dei classici eh moderni eh e di chi nel novecento eh riprende riformula e restituisce un nuovo concetto di epica come appunto eh eh T.S. Eliot o Estra Pound o St. John Peirce eh sono tutti autori che loro dico loro perché non è solo eh Varela o Corsino Fortes ma tutta questa generazione leggeva eh e per cui eh si sono appunto eh ispirati anche a questo dal punto di vista formale si vede già che sia gli exemplus che il libro di Noccia sono organizzati riprendendo la struttura eh della eh di un discorso di tipo epico a parte che eh lui scrive lui eh eh Varela come Joan Vario gli exemplus sono ascritti a Joan Vario eh parla di Dodecateuco eh per cui in cui ciascun esempio è suddiviso in Ode iniziale tre canti e un'ode finale eh lo stesso tipo di strutturazione lo trova lo si trova nei livros di Noccia per cui anche questo è diviso in tre parti in tre canti tra virgolette che lui chiama però discorsi e ce lo dice poi lui eh che cosa fa dice eh io non so se voi non sapete non non dominato è giusto il portoghese vero allora lui dice il libro è diviso secondo la struttura di un poema epico ce lo dice lui eh nella prima parte il poeta indica ciò che 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 racconterà la proposizione nella seconda dedica il poema la dedica e invoca non le muse o gli dèi ma bensì i poeti antichi eh o i come i poeti antichi scusate non non invoca le musei e gli dèi come i poeti antichi ma us trova irus trova irus sono i i poeti popolari eh quelli che poi cantavano le mornes quelli che eh e i poeti della propria terra o i poeti neri eh dell'Africa sengorse eser cicaia mostrando apprezzamento eh mostrando l'apprezzamento che hanno o rendendogli in questo modo una specie di omaggio invocazione infine nella terza parte comincia a raccontare alcuni episodi della storia del suo popolo dopo brevi riferimenti alla agli insediamenti alla fauna alla flora alla demografia all'etnologia dell'arcipelago narrazione per cui questo è la struttura del libro di Noccia che è una struttura ovviamente una struttura epica una struttura epica eh mutuata dal eh dall'epica classica ma attraverso l'intermediazione dell'epica eh camoniana eh per cui eh quello che c'è anche di camoniano tra virgolette è che è un'epica senza veri eroi eh non c'è un eroe eh ma eh lui dice piccoli grandi eroi della nostra quotidianità che sono Lela di Manigna Bilac Palapa che sono i Troveirush sono i eh i cantanti i cantanti di Mornas eh che eh sono appunto eh la la il portato eh culturale autoctono alla nuova poesia eh capoverdiana che doveva nascere da questo connupio e di celebrazione della eh capoverdianità eh del eh che appunto stava per nascere più o meno lo stesso succede con Cortesino Fortes come vedete i due eh sono scusatemi no io volevo andare indietro eccolo eh Giamman Varela come vedete è del trentasette eh Corsino Fortes è del trentatré per cui è più vecchio di Varela però eh Corsino Fortes ebbe una vita un po' meno lineare diciamo così per cui ebbe molti più problemi rimase a orfano molto presto per cui dovete lavorare per cui dovete interrompere i suoi studi per poter lavorare e poi riprese i suoi studi proprio con Varela come diciamo così tutor eh e fu attraverso Varela che eh riuscì o con l'aiuto di Varela che riuscì poi a prendere la licenza eh la licenza liceale e poi eh solo in un secondo tempo appunto più anziano eh andò a Lisbona come come tutti perché non c'era un'università eh a Capoverde eh né in nessuna colonia ex colonia o colonia eh non c'era insomma l'università viene dopo l'indipendenza eh per cui dovete andare in Portogallo a studiare studio a diritto e fece eh poi una carriera in questo ambito eh scrive questa trilogia eh che appunto è suddivisa in tre eh parti eh che è eh appunto che raccoglie nel 21 nel 2001 sotto il eh il titolo complessivo a cabeça calva di Deus a cabeça calva di Deus cioè la testa calva di Dio sono le isole eh Capoverde eh che sono appunto isole desertiche loro le isole Capoverde erano quando sono arrivati eh i i genovesi e i veneziani come ricordava prima eh professor Francavilla non erano mica popolate e c'è mica c'era una ragione per cui non erano popolate no? Perché isole vulcaniche isole che appunto come diceva prima eh che da producono sale ma non hanno una terra per niente fertile ecco che la fortuna di Capoverde erano i porti eh quando infatti quando poi il porto di Mindelo eh è stato soppiantato da quello eh di del canario della della spalma infatti si è sentito comunque eh del pan e fonema eh pane e fonema che sono le due i due eh nutrimenti basici dell'uomo no? Il pane e la parola eh che caratterizza il primo eh che che appunto dà il il eh la prospettiva del primo eh del primo libro eh in cui tratta appunto della situazione a Capoverde ai tempi del colonialismo poi arvore e tambore per cui anche lì eh sempre un elemento eh sempre un elemento eh naturale diciamo così e eh eh artistico eh che è appunto la fase della liberazione e poi Pedro di Soli Sustanzia con la costruzione eh di una nuova società a Capoverde ehm dicevo appunto che i due eh Varela e Fortes si conoscevano eh si conoscevano non solo eh come dicevo a Capoverde perché eh Varela era poi appunto aiutò eh eh Corsino Fortes a superare gli esami di eh di maturità diremmo noi eh ma la loro amicizia il loro convivio eh continuò anche in Portogallo eh Varela in quelle sue epistole eh epistola prima era e seconda un'euro maio Antonio e poi ottava sono le tre epistole più importanti più metalletterari che ci fanno capire anche alcune dinamiche propriamente tra i gruppi eh e soprattutto vabbè la seconda epistola è molto interessante perché se la prende moltissimo con Russell Hamilton e la sua posizione è un po' da spocchioso secondo lui rispetto alla eh alla sua poesia e alla poesia capoverdiale in generale ma comunque ehm si vedono appunto anche a Lisbona anche in Portogallo e parlano molto e eh di letteratura eccetera eh Varela dice eh afferma di avere eh mostrato a a a Corsino forte cioè i manoscritti delle eh dei suoi Livros di Noccia che ancora non erano pubblicati il secondo non era ancora pubblicato e poi ritrova secondo lui all'interno della trilogia di eh di 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 Corsino soprattutto Pau e Fonema ritrova molte delle immagini e molte delle soluzioni anche poetiche che lui stesso aveva eh prodotto eh nel nel libro di Noccia nel primo libro di Noccia alla fine però non c'è acrimonia però eh ci sono un po' di puntini sulle i eh e alla fine poi eh dice Pau e Fonema è in un certo senso un plagio intelligente e creativo del primo primo libro di Noccia eh ora che sia plagio non plagio questo non ci interessa quello che interessa sono sono testi assolutamente differenti eh dal punto di vista eh propriamente della della resa poetica della dell'uso delle metafore dell'uso propriamente della lingua eccetera eh e soprattutto per esempio questa trilogia è più smaccatamente debitrice di una strutturazione epica classica eh appunto rispetto al libro di Noccia Pau e Fonema lo vedete è eh composto da da una proposizione proprio si chiamano così eh li chiama così proposizione canto primaero canto secondo canto terseiro ogni canto ha un eh titolo ed è molto importante a proposito di quello che si diceva prima appunto della eh della valorizzazione del della della lingua parlata capoverde che non è il portoghese tutt'oggi non è il portoghese la lingua materna dei capoverdiani è il creolo capoverdiano eh la lingua capoverdiana il creolo capoverdiano che non è ancora lingua ufficiale il lingua ufficiale è ancora il portoghese si spera che nel prossimo futuro finalmente si metta d'accordo e eh no scherzo vabbè è importante che Corsino Fortes eh dia al canto primo eh un titolo in eh in creolo capoverdiano c'è un de pover c'è un de pedra per cui eh c'è un eh terreno eh del popolo e terreno di pietra eh è importante questo perché per esempio non lo vediamo in Varela non lo vediamo in Timotio Teotiofe se voi leggete le eh il libro De Noccia è un libro densissimo molto eh molto difficile anche e ma programmaticamente difficile perché lo stesso Teotiofe cioè Varela dice che si deve essere esigenti con i propri lettori per creare dei lettori consapevoli della propria lingua cultura eccetera però non userà mai il creolo mentre ehm Corsino Fortes sì eh Corsino Fortes all'interno dei suoi delle sue tre eh dei suoi tre eh libri eh userà eh alternativamente portoghese e creoli eh per cui attenzione poi ci sono state fatte delle edizioni in Brasile per esempio hanno tolto tutte le parti in creolo le hanno tradotte le hanno tradotte tutte in in portoghese eh no le edizioni originali non avevano una traduzione in portoghese eh non l'avevano per cui alternava testi in portoghese e testi in creolo con una attenzione specifica appunto a questo plurilinguismo eh che darà esiti diversi in nelle le varie letterature di lingua portoghese africane di lingua portoghese come non so se avete mai letto o visto o affrontato Luandino Vieira o un Wanyeng Cittu eh cioè eh sono generazioni queste che riflettono e pensano anche a che tipo di lingua usare e a che tipo di lingua eh che quale portoghese o quale appunto lingua eh creola eh eh proporre eh come eh lingua unificante o lingua che voglia essere anche un'arma di eh valorizzazione della propria eh eh identità eh separata da quella dei colonizzatori no? Il famoso Viro dalla la peste rossa per avermi insegnato la la vostra lingua del eh di eh del calibano della tempesta eh la lingua eh la lingua dei degli africani di lingua portoghese diventa un altro portoghese o un 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 portoghese sperimentale eh che eh nel caso di Capoverde visto che tutti i capoverdiani parlano creolo eh il creolo diventa appunto la lingua dell'unità nazionale diciamo così in Arvore di Tambor la cosa eh interessante è questa proposizione prologo che chiude cioè questo il testo chiude e apre apre e chiude scusate con eh la eh proposizione prologo e eh nella Pedra di Soli Substanzia appunto eh c'è questo canto della speranza con ecco forse Pedra di Soli Substanzia è quella che è è il libro che indugge un po' di più eh nella eh in una poesia eh estremamente engagé con alcune anche con alcuni termini che poi si ripetono si ritrovano anche in Agostino Neto con appunto una retorica un po' dell'MPLA che prende un po' il sopravvento ehm quello che eh appunto è eh è interessante è che entrambi gli scrittori sono consapevoli eh di stare usando dei eh dei modelli eh che appartengono ai eh colonizzatori tuttavia come dicevo prima appunto eh nell'assumere una forma del contenuto poi ne discutono o ne eh negano quasi eh la l'adesione al al genere perché per esempio lo stesso eh Varela ad un certo punto dice il mio la mia poesia il mio poema non è e non non vuole neanche essere un poema epico anche se io ho volontariamente preso in prestito le vesti del poema epico eh solo le vesti e non il resto eh eccetera ehm però eh se noi continuiamo a leggere questa eh questa sua dichiarazione perché dice questo soltanto per facilità di descrizione di organizzazione del materiale dell'opera e di ricerche a livello di linguaggio in effetti il poema rappresenta prima di tutto un tentativo di creare un linguaggio poetico nuovo nella poesia capoverdiana utilizzando elementi o vocaboli colti nella sua storia fa una flora geografia senza eh lasciare eh che filtri questo questo discorso da una prospettiva culturale non l'usitano strettamente capoverdiana come certe poesie però questo che cosa vuol dire usare vocaboli elementi colti nella sua storia fauna flora geografia eccetera vuol dire esattamente porsi come una poesia di una nuova capoverde per cui una nuova una poesia di tipo fondazionale e questo riallaccia alla eh alla idea di epopea di epica che eh abbiamo visto all'inizio per cui nel momento stesso in cui nega di fare un poema epico effettivamente lo fa lo stesso anche se lo nega non so se se rendo l'idea ed è quello che è interessante collegandosi a quello che si diceva prima da di professor Russo diceva appunto della generazione Cabral eh perché effettivamente poi eh rispetto a quello eh che prima a cui prima accennavo lo stesso Varela dice mi servo della cultura occidentale come di un'arma miracolosa eh come direbbe Césaire per elaborare a partire di da cose nostre da radici specifiche una poesia di interpretazione ontologica o una scusate qui c'è un refuso poesia capoverdiana di un dal nuovo vigore eh e per avere una coscienza acuta di questo eh di questo mondo anche qui c'è un altro errore scusatemi o di questo secolo ammetto come Senghor che tutto è più fecondo dentro in eh all'interno di una eh si fatta eh di un si fatto meticciato culturale per cui eh nello stesso momento in cui nega l'epica eh la usa nel momento stesso in cui vuole affermare la propria capoverbianità usa anche materiali allogeni e questo è un po' l'idea della eh della prospettiva eh di eh Varella questa prospettiva di Varella che poi c'è anche in un po' meno però c'è anche in Corsino Fortes ma questa di Varella è più evidente e soprattutto è una presa di coscienza eh cioè è programmatica è quella di attraverso la capoverdianità ehm attestare una un panafricanismo che eh eh che dovrebbe appunto raccogliere e eh legare tutta la eh la produzione africana in quel momento perché dice dicevo sempre nella prima epistola se eh dicevo che il primo libro di Noccia eh tenta integrare o introdurre capoverde nel discorso poetico attraverso eh attraverso ciò che che si sa della sua storia della sua cultura e considerarla questa cultura dentro all'interno dei quadri del continente a cui appartiene l'Africa per cui la poesia epica eh capoverdiana è un trampolino per eh riflettere o ripensare propriamente tutta la cultura africana in relazione appunto al a questo dialogo tra eh cultura autotona e cultura eh allogena eh la nostra cultura dice ha perso molto dei suoi elementi specificamente africani eh in modo eh e perciò eh è oggi difficile eh leggere in lei vestigio dell'Africa eh dicono eh certuni ma non è impossibile eh non è impossibile non dargli torto eh ma il problema è eh altrove se pretendiamo eh di crescere se desideriamo produrre una cultura che valga la pena eh abbiamo bisogno di un'organizzazione sociopolitica propria eh emancipata da quella portoghese e non e non è quella europea che ci deve fornire il grosso dell'aiuto culturale necessario eh ma se ma senza eh senza dubbio l'Africa per cui va a ripescare cioè l'idea della questa ovviamente questa prima epistolo è stata scritta subito dopo eh la pubblicazione del primo libro di Noccia per cui nel settantaquato settantacinque quella in quegli anni eh in un momento in cui appunto ancora a Capoverde non aveva avuto non aveva eh non era indipendente tuttavia la prospettiva è importante perché appunto non va a ripescare nell'Europa eh anche se usa la cultura occidentale vedete che il discorso è appunto sempre abbastanza circolare ma eh va a mh vorrebbe rivedere o riassumere all'interno di una cultura già una un 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 come dire un un qualcosa in più che gli venga appunto dall'Africa eh non da Capoverde dalla sola Capoverde ma dall'Africa eh dall'Africa eh tutta ehm questo è importante in un contesto come quello appunto portoghese in cui eh vi sono anche delle sacche di resistenza eh contro l'immagine del 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 colono insomma eh eh in cui l'epica eh il 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 discorso epico eh gioca veramente una parte importante per questo ho messo qui questa eh questa eh slide eh che ricorda le Kibirikash eh che appunto sono questo poema scritto chissà quante mani poi non si sa bene eh da eh Antonio Quadrus e altri intellettuali eh in Mozambico non dico Mozambicani alcuni si sentono mozambicani ma diciamo eh in Mozambico eh che contraria eh che che vuole offrire appunto un'immagine una controimmagine della presenza portoghese in Africa eh Kibirikash fa eh riferimento alla famosa battaglia di Alcassar Kibir del 1578 in cui Sebastiano muore eh e in cui muore un progetto eh muore questo progetto e appunto queste Kibirikash dovrebbero ehm dovrebbero eh far riflettere i portoghesi sul proprio sulla propria presenza in Africa eh e determina appunto poi il ritorno dei portoghesi dall'Africa insomma la ehm questo questo che cosa che cosa voglio dire con questa ultima eh con questa ultima slide vorrei appunto mh mh ritornare all'idea iniziale cioè quanto l'intertesto camoniano gioca eh e quanto l'intertesto poi camoniano eh fertilizza ma soprattutto viene poi diciamo così crea un un humus che con altri elementi locali eh e eh generali eh di un di un certo di una certa eh zona dell'Africa perché dell'Africa australe non certo eh del Maghreb vengono appunto a eh a formare eh questi nuovi eh elementi questi nuovi testi che eh sono testi epici eh e eh e raccontano di un eh di un delle figure eroiche di resistenza che sono resistenza non solo al colonizzatore ma resistenza anche a una per quanto riguarda Capoverde a una eh a un clima eh estremamente ostile come abbiamo già visto per cui l'eroismo quotidiano è l'eroismo che combatte contro la siccità contro la povertà contro la fame contro il il sale e e contro tra virgolette anche il terralongismo eh o cioè che combatte che vuole superarlo ma interiorizzandolo eh in modo eh estremo eh in questi poemi appunto che raccontano eh la formazione eh della propria identità culturale bene grazie grazie Valeria per questo intervento vecchissimo eh allora devo fare una missione di colpa anche due eh chi sta seguendo il corso solo di quest'anno eh ci stiamo occupando prevalentemente soprattutto di Brasile quindi non conoscono Camões e Lusiadi che però abbiamo affrontato anni fa vedo qui eh un paio di studenti dei corsi vecchi e l'altra missione di colpa riguardo Luandino Vieira ne ho trattato ne ho parlato un po' in un vecchio corso in realtà parlare di Luandino Vieira senza poi avere modo di vedere direttamente il testo apprezzare il testo il lavoro sulla lingua è un po' difficile ad ogni modo credo che gli stimoli non siano comunque mancati eh dal anche da da questo intervento quindi grazie mille Ada si è laureata a Milano in triennale con una tesi sulla vada a memoria sulla ricezione di italiana di Pessoa in particolare di Alvaro De Campos eh laurea magistrale veramente ci conosciamo da tantissimo tempo laurea magistrale sua Milcar Cabral eh che ha anche tradotto eh abbiamo fatto delle cose insieme sui temi della mia ricerca Ada poi è anche una traduttrice eh biografia importantissima di Lula quando Lula era in carcere cita per me il temi ha tradotto un poeta importantissimo del canone letterario portoghese che è Boccage eh e poi ovviamente la monografia che è il risultato della sua tesi di dottorato eh orientador il professor Roberto Francavilla con un passaggio brasiliano alla eh Fluminense che è poi anche un po' il tema del intervento ed è una rivista letteraria importante mozambicana itinerario grazie 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 mille Vincenzo sì allora io dico veramente faccio due note eh poi con gli studenti avrò modo di di confrontarmi eh più approfonditamente quindi sono note che vengono proprio dalla mia ricerca di dottorato quindi che ha riguardato appunto questa rivista mozambicana di cui vi parlo tra poco eh allora anzitutto eh inizio proprio mettendo l'accento su una caratteristica che accomuna la formazione della letteratura di capoverde angola eh mozambico questa caratteristica comune che è suggerita appunto dal titolo del mio intervento è eh il legame la la correlazione fortissima tra produzione letteraria e stampa periodica giornalismo e letteratura come vedete qui procedono mano nella mano parallelamente come gemelli siamesi eh entrambi sono saranno strumenti fondamentali per immaginare e costruire la nazione le la la futura nazione indipendente allora qui vedete alcune delle riviste claridad importantissime che che coprono appunto i tre eh i tre luoghi fondamentali della eh letteratura eh africana diciamo così capoverde angola mozambico senza escludere le altre al centro claridad già citata varie volte questa mattina ehm capoverde dunque eh vedete poi eh sulla parte in fondo a destra mensaggia in rivista importantissima per la letteratura angolana ne sono usciti soltanto due due numeri tra il cinquantuno e il cinquantadue successivamente eh bloccata rivista bloccata dalla censura eh le altre tre quindi itinerario grado ubrado africano e msaho sono eh proprio la triade quella che viene considerata la triade della formazione della letteratura mozambicana eh vi parlo eh velocemente vi parlerò soprattutto di ubrado africano e eh itinerario appunto di cui mi sono occupata durante il dottorato allora ehm partendo proprio con ubrado africano eh vediamo che eh ehm viene considerato proprio un giornale un periodico mitico proprio a partire dal dal suo nome dal titolo che significa il grido africano eh viene fondato nel millenovecentodiciotto da questi due fratelli Joan e José Albasini Mulatti figli di padre portoghese madre mozambicana che alcuni anni prima avevano già fondato una rivista importante o africano la cui particolarità è quella di essere stato il primo giornale a ehm scrivere a a impiegare una lingua locale cioè la lingua ronga che cosa ehm che cosa scrivono questi autori nell'editoriale di apertura di ubrado africano eh leggo proprio poche righe tutti coloro che non lottano per i propri diritti si autocondannano volontariamente a essere zerbini degli altri fermarsi e morire per i popoli soggiogati più più che per gli altri questo dovere è una religione e e via dicendo quindi ehm chi chi sono eh coloro che scrivono qui eh sono fondamentalmente membri della piccola borghesia autoctona formata da neri e meticci e eh sono appunto autori eh scrittori che cominciano a far sentire le proprie proteste contro le le leggi discriminatorie dello stato coloniale in particolar modo vi ho riportato qui ehm il il fulcro no eh della della la protesta ruota intorno in questi anni alla ehm pubblicazione di questo documento che si chiama portaria ad us assimiladus pubblicato nel millenovecentodiciassette che è un documento legislativo di fatto che ehm introduce una distinzione fondamentale introduce il confine tra indigenas e assimiladus ehm possiamo vedere che potevano essere considerati assimilati agli europei soltanto gli individui di razza nera o discendenti che avessero abbandonato usi e costumi della tipici della loro razza tra cui ad esempio la poligamia eh e soprattutto individui e persone che fossero in grado di parlare scrivere leggere in lingua portoghese eh indigenas erano ovviamente tutti gli altri quindi trattati come una massa indistinta questa separazione pensate resterà in vigore per tantissimi anni quindi la primo nucleo millenovecentodiciassette eh resterà in vigore fino agli anni sessanta e quindi fino alla vigilia della guerra coloniale di cui abbiamo già parlato quindi si traccia proprio una barriera invalicabile tra eh per la stragrande maggioranza della popolazione ehm qui eh vi ho riportato appunto a proposito del fatto che è una separazione che rimane in vigore nelle colonie portoghesi fino agli anni sessanta quindi non tantissimi anni fa vi ho riportato qui eh una citazione dal caro Amilcar Cabral leader del partito per l'indipendenza della Guinea e di Capoverde che eh negli anni sessanta mette proprio in luce distrugge questo ehm smontano la la logica dietro questo che viene chiamato l'apartheid alla portoghese. Cabral che cosa scrive? Il Portogallo è un paese sotto sviluppato con il quaranta per cento di analfabeti e il suo livello di vita è il più basso d'Europa. Se riuscisse ad avere un'influenza civilizzatrice su qualche popolo sarebbe una specie di miracolo. La popolazione africana di Angola, Guinea, Mozambico è considerata non civilizzata per il novantanove virgola sette per cento mentre per il restante zero virgola tre è considerata assimilata. Perché un individuo non civilizzato ottenga lo statuto di assimilato deve dimostrare stabilità economica e godere di un livello di vita più elevato della maggior parte della popolazione del Portogallo. E questa finale bellissimo. Se i portoghesi dovessero adempiere queste condizioni più del cinquanta per cento della popolazione non avrebbe diritto allo statuto di civilizzato o assimilato. Quindi vedete Cabral proprio distrugge eh la retorica eh del regime. E tornando invece ai nostri di Ubrado africano appunto abbiamo visto che quarant'anni prima diversi anni prima no? Già eh si battevano contro queste eh ingiustizie. Vado avanti velocemente eh Ubrado africano poi perderà il suo slancio a partire dagli anni trenta. Gli anni trenta sono gli anni in cui viene ehm istituito il regime di censura preventiva e dunque eh Ubrado africano perde la sua carica polemica. Le cose cominciano a cambiare ehm nel dopo la seconda guerra mondiale. Sostanzialmente nel dopoguerra quindi dopo eh la fine della guerra seconda guerra mondiale eh inizia a incrinarsi quella atmosfera di tranquillità surreale che aveva caratterizzato gli anni trenta e primi anni quaranta. In particolare con eh tranquillità surreale mi riferisco all'immagine di un portogallo eh come una sorta di isola neutralmente felice in mezzo a un contesto drammatico di guerra. E qui credo che sia eh fantastica l'immagine colta da Antoine de Saint-Exupéry eh che passa a Lisbona negli anni proprio nel millenovecento quaranta eh e vediamo velocemente che cosa scrive. Quando nel millenovecento quaranta ho attraversato il Portogallo per andare negli Stati Uniti Lisbona mi apparsa subito come una specie di paradiso chiaro e triste. Lisbona che aveva realizzato la più bella esposizione che ci fosse mai stata al mondo sorrideva ad un sorriso un po' pallido simile a quello delle madri che non avendo notizie di un figlio andato in guerra si sforzano di salvarlo con la loro fiducia. Nel mio paese le città di notte erano del colore della cenere. Mi ero disabituato a ogni illuminazione e questa capitale risplendente mi causava un vago malessere e però trovavo Lisbona nel suo sorriso più triste delle mie città spiente. Ehm quindi nonostante l'incombente minaccia della guerra il Portogallo continuava a specchiarsi in una eh nello sfarzo di questa esposizione del mondo portoghese. Eh Esposição do mundo português organizzata nel nel millenovecento quaranta dove come potete vedere da queste immagini anche gli africani figuravano veramente come comparse esotiche a dimostrazione proprio della retorica del regime eh delle città di nuovo retorica sintetizzata in questa formula portugal varieschras schumassona sound quindi eh questa immagine di una comunità multiraziale armoniosa. In questa immagine chiaramente cominciano ad aprirsi delle crepe proprio partire dal dal dopoguerra. Ehm dalle colonie cominciano ad arrivare anche attraverso la letteratura forti segnali di eh cambiamento. La letteratura in altre parole eh diventa uno strumento fondamentale eh diventa il terreno su cui poi si giocherà da cui parte poi la la lotta armata e questo lo vediamo molto bene nella attraverso la rivista itinerario. Vi avviso già appunto è un percorso complesso itinerario ehm e adesso non vado appunto a parlare di tutto itinerario eh ha un percorso che si snoda su quattordici quindici anni viene è una rivista che viene fondata nel millenovecento quarantuno prosegue la sua corsa fino al millenovecentocinquantacinque sono anni in cui tante cose cambiano e eh itinerario deve anche avere a che fare poi eh con la censura ehm e quindi è mh un percorso veramente travagliato proprio è stato un percorso travagliato anche lo studio no di questa rivista. Sostanzialmente tre aspetti differenziano itinerario dalle altre pubblicazioni periodiche del periodo ehm la militanza eh e la longevità ehm e infine l'attenzione alle letterature straniere che è un po' il ehm quello di cui vi vi parlo brevemente adesso. Attenzione alle letterature straniere quindi i flussi culturali esogeni se vogliamo chiamarli così sì eh possono vedere soprattutto nelle prime due fasi della rivista quindi tra il quarantuno e il quarantanove anche se poi eh continuano. In particolar modo nella prima fase eh itinerario riserva particolare attenzione alla ricezione della letteratura brasiliana. Abbiamo diversi articoli che gettano uno sguardo sulle opere di George Amado eh Rachel de Queiroz Graciliano Ramos e ehm però l'interesse si concentra anche su autori e di calibro internazionale come ad esempio Maxine Gorky, Romain Holland ehm André Marreux eh ed altri quindi a grandi linee giusto sintetizzandola possiamo dire che la letteratura di questi autori e altri prepara il terreno per le riflessioni sulla letteratura ehm sulla letteratura di tipo sociale e eh sulla missione dell' intellettuale cioè si opera veramente una transizione da un' arte eh individualista ombelicalista eh fino ad arrivare a una letteratura intesa come strumento eh sociale. Successivamente nella seconda fase eh grandissima attenzione verrà riservata al neorealismo portoghese eh chiaramente questo dimostra una vicinanza politica alle posizioni della sinistra portoghese dunque all'opposizione e qui vedete appunto alcuni esempi di titoli ehm questo ci arrivo dopo altro punto forte altro altra ricezione fondamentale è quella del cinema neorealista italiano hm si susseguono vari articoli e in particolar modo anche una piccola polemica un piccolo dibattito che riguarda ladri di biciclette ehm e eh appunto anche eh il cinema italiano con la sua attenzione alle classi marginali alla povertà eh sarà fondamentale poi per la costruzione di una letteratura autentica ehm altra ehm altro flusso straniero fondamentale è quello dei eh che viene dagli Stati Uniti in particolar modo dal cosiddetto rinascimento di di Harlem ehm questo tipo di letteratura fungerà da stimolo per la presa di coscienza rispetto alla eh esclusione razziale e ehm adesso non sto a leggere questa citazione è una citazione credevo di averla riportata ma poi correggo le slide eventualmente di Noemia De Sosa ehm Noemia De Sosa che è mh è stata una fu una collaboratrice di itinerario ed è oggi considerata la madre della poesia mozambicana e in questo estratto di intervista che vi ho riportato qui ammette proprio la grandissima influenza della letteratura nera eh nordamericana e anche della musica parlavamo prima di musica Roberto in apertura ha detto che è fondamentale per noi è imprescindibile tante volte spesso parlare di musica di corpo ecco e qui anche abbiamo ancora un altro esempio no l'importanza del blues del jazz eh degli spiritual ehm non vado a leggerla ma eh poi condivido poi con gli studenti eh le slide eh il punto fondamentale considerando proprio la formazione della letteratura mozambicana è questo eh l'immagine di ehm la metafora di questa antropofagia culturale sintetizzata in questa citazione di Virgilio De Lemos avidi di tutto ma digerendo solo ciò che volevamo e questa è una caratteristica della mia generazione ci importava all'epoca essere dentro il movimento internazionale delle idee volevamo poter avere la libertà di leggere viaggiare di esprimere i nostri eh pensieri dunque ehm proprio si viene fuori no emerge proprio questa eh sete di conoscenza della letteratura straniera e mh vado veramente chiudendo ehm facendovi vedere eh qua mancano dei pezzi in realtà nelle nelle slide ehm qui eh vi ho riportato appunto le immagini di questa busta marrone eh busta marrone eh che viene un'immagine che viene da un critico eh che si chiama Stefan Helgeson eh che riflette proprio su questi transiti che si formano soprattutto nella letteratura mozambicana angolana a partire dal secondo dopoguerra e eh Helgeson eh nota proprio che l'immagine eh di questa busta marrone che circola attraversando confini oceani eh con al suo interno libri lettere periodici è proprio mh può essere considerata proprio la sineddo che della cultura a stampa del secondo dopoguerra nell'Africa meridionale ehm poi ecco magari mi concentrerò altri in altri momenti su un piccolo approfondimento qui trovate un'altra citazione eh di Salim Miguel sempre relativamente all'importanza di questa circolazione di materiale eh periodico e anche di di libri eh circolazione di libri che attraversano proprio i confini e che si muovono eh in varie parti del mondo sfidando eh l'opposizione della censura che è un po' la la chiave di di questa citazione ehm concludo no non l'ho messa qua avevo messo un'altra citazione ma mh concludo semplicemente eh proprio facendo riferimento su que sulla circolazione alla circolazione fisica di libri giornali e lettere che proprio riprendendo Helgesson da vita a quelle che lui chiama reti di discorsi o discourse network eh reti di discorsi che permettono di eh sfidare la tirannia del luogo quindi la tirannia coloniale in un doppio processo di fuga dalla realtà coloniale e di costruzione di una letteratura autentica che è un po' il processo che sta dietro proprio anche la formazione di itinerario quindi prima una eh di gestione quindi una ricezione una digestione da di quello che viene da fuori oltre i confini e parallelamente produzione di qualcosa di nuovo con caratteristiche eh peculiari ehm basta solo eh dei titoli giusto per farvi vedere eh vi parlavo prima dell'aspetto militante di itinerario su itinerario verranno pubblicati ehm articoli proprio anche che mettono a nudo le fragilità del regime come ad esempio ehm questo articolo uscita di nuovo è antidemocratico e totalitario uscita di nuovo non defendo us interesse da sclassi medie quindi articoli che accusano ehm nero su bianco mettono sotto accusa le ingiustizie e le eh le fragilità proprio del regime eh questo chiaramente eh varrà a itinerario eh dei dei colpi proprio di di censura e infatti vi ho riportato l'ultimissima immagine a mo' di esempio no? Quindi vediamo che proprio in corrispondenza di questi articoli subito dopo quando nei piccoli pochi periodi in cui vengono fuori articoli con clamorosi titoli subito dopo il giornale viene sospeso magari per due, tre, quattro mesi e infatti a volte mi è capitato appunto di trovare eh sulla prima pagina della rivista no? Questa striscia nera che stava a coprire il numero che doveva uscire mesi prima e che poi viene sospeso e esce poi con un ritardo e questa chiaramente qui vediamo chiaramente la mano della della censura. Io chiudo perché vorrei eh dare spazio un po' al dibattito, domande per per i nostri relatori, quindi eh cominciate pure a intervenire. Grazie. Risponserò per brevissimo e grazie mille per la domanda. Ehm allora io io nel libro provo a dire no? Che c'è un un fatto, lo sappiamo, sono fatti interpretazioni eh le 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 interpretazioni, le versioni date a quell'incontro, la Santa Sede scrive una nota dicendo non è una vera e proprio dienza, passavano di là e il Papa così per caso li ha visti ma non sapeva neanche chi fosse. Insomma il libro prova a dire guardate che il Papa sapeva chi erano eh da da quali le zone dell'Africa provenivano eh no quindi si 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 intende. C'è una cosa straordinaria. Ho avuto la fortuna ma un puro caso eh di di trovare in un opuscolo nella alla Fondazione Basso di Roma la conferenza stampa di cui tutti parlavano ma io non avevo mai visto il il testo no? La restituzione testuale. Ho trovato la conferenza stampa in italiano dei giornalisti italiani invitati e di Cabral e Marcelino Dussantos che rispondono. Cabral è è abilissimo. No? Eh Valeria diceva prima Salazar no? Un un grande visionario. È vero. Cabral è un ha un'arte retorica politica straordinaria. Cioè in quella conferenza stampa lui ha un obiettivo che è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica portoghese in in primis cioè facendo vedere che c'è una crepa fondamentale fra la Chiesa e il Vaticano e la Chiesa portoghese che invece è complice collusa no? Eh a doppio filo stretta con con lo stato nuovo e col colonialismo portoghese. Ovviamente no? Salazar Salazar era compagno di stavo dicendo di merende ma no no qui qui a Siena non si può dire era compagno di repubblica di del di quello che sarebbe diventato il cardial ceregera. No? Quindi abbiamo il cardinale e il dittatore insieme e sappiamo come l'opinione eh una parte una parte dei cattolici portoghesi una piccola avanguardia sicuramente intellettuali sicuramente anche delle classi agiate sto pensando Sofia, Nono Braganza, eh Bernard da Costa eh quelli Edoardo Lorenzo che non abita in Portogallo ma quelli eh tempo modo eh cine club portoghese che nel Natale del sessantotto se non sbaglio del sessantanove fanno no una veglia eh alla Basilica d'Estrella contro la guerra. In un certo senso sì quell' opposizione questi questo gruppo si sente legittimato dal fatto che il papa in un certo senso ha eh concesso no l'udienza ai tre leader africani sicuramente la la cosa che sconcerta il Portogallo è la è la eco mediatica e siamo in un tempo in cui appunto non c'è internet però questa cosa qui no che il 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 Vaticano voleva mantenere sotto traccia no? C'è questo racconto di Marcella Glisenti che dice ehm perché non ci sono fotografie dell'incontro Marcella Glisenti che è l'italiana che combina quest'incontro dice no ma io ho posseduto per anni la fotografia dell'incontro ma l'ho perduta no? Eh chi chi assiste dice che è stato allontanato il fotografo il Vaticano voleva mantenere un po' la cosa sotto traccia sotto tono ma non ci riesce proprio per l'abilità di di Cabral in questa conferenza stampa quindi e questa cosa sconcerta tantissimo il portogallo tant'è che poi c'è la vicenda del 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 richiamo del dell'ambasciatore però non voglio rubare altro tempo grazie a tutti